Grazie a tutti. 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 Nomeno sfruttatori, se accettano i consiglieri Gaia, Ambrogio, Marengo. Grazie a tutti. 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 Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie a tutti. 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 Mi unisco anche a tutti. Mi unisco anche io a tutte le persone scomparse che ha fatto il sindaco, però volevo molto brevemente anche io ricordare la figura di Pino Canalisi quanto è stato un componente della lista Progetto Bra, in cui abbiamo militato insieme parecchi anni fa, una lista che ha scritto un pezzo di storia anche a livello amministrativo e politico del Comune di Bra. E appunto Pino Canaris era una persona, un pilastro importante di questa lista e più che altro volevo sottolineare veramente con commozione perché con lui mi regava veramente un rapporto molto fraterno quasi, posso dire. E quindi era una persona molto disponibile, dotato di un'umanità senza precedermi, io non ho conosciuto persone più con un'umiltà, un'umanità così e ricordo così brevemente quando sono stato assessore ai lavori pubblici nel 99 al 2004 lui era consigliere comunale, una persona che poi essendo anche uno sportivo andava a piedi, in bicicletta, girava per il territorio, aveva una grande comunicazione, parlava, ma veramente sapeva ascoltare la gente, le problematiche, che poi le riportava qui in Comune faceva veramente un grande servizio, ma proprio dal punto di vista senza nessuna problematica e per questo lo voglio ricordare in quei momenti lì, quando stava bene e purtroppo poi ho portato delle grandi sofferenze sia a lui che ai suoi familiari e per questo veramente lo voglio ricordare e voglio dire che alla loro famiglia, glielo ho già detto personalmente, sia alla moglie che a tutti i suoi familiari che devono essere orgogliosi di aver avuto un marito e un papà così, perché è veramente una persona molto speciale. Grazie. Grazie al consigliere Elena. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente. Io sarò molto più rapido, ma anch'io voglio unirmi al saluto del consigliere Pino Canalis. Lo ricordo perché quando io, ormai più di vent'anni fa, mi avvicinavo a coltivare maggiormente la mia passione per l'amministrazione, lui è stato per me un riferimento perché da giovane che mi avvicinavo all'amministrazione vedevo in lui quello che avrei voluto essere negli anni successivi. Perché ero giovane, vedevo in lui una persona che si muoveva con degli ideali che sono quelli che poi devono e hanno ispirato e stanno ispirando quella che è la mia attività amministrativa, legata sul territorio, una persona sportiva e quindi non poteva che essere vicina a me anche in quell'aspetto. Credo di poter dire che oltre ad aver ispirato me in alcuni atteggiamenti, in alcuni comportamenti dal punto di vista amministrativo, posso averlo fatto anche con tanti altri giovani che l'hanno conosciuto in quel periodo. Quindi mi unisco anch'io al saluto e alle condoglianze alla famiglia per il consigliere comunale Pino Canalis. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto la parola al consigliere Somaglia. Grazie Presidente. Sono anch'io brevissimo perché mi unisco ovviamente alle parole del sindaco per le condoglianze a tutti i familiari di dipendenti che sono mancati in questi due mesi. L'amico Marco ha ben ricordato Pino Canalis che per noi è stato oltre un compagno di viaggio nelle prime esperienze amministrative un grande amico. Però permettetemi anche di ricordare brevemente un amico che è scomparso in questi giorni, che con me è stato candidato più volte nelle liste di Forza Italia, poi del PDL, che è Maurizio Costantino, che è un amico per tanti di noi. Grazie. Grazie. Ricordo anche di Costantino, ci accompagnerà di sicuro. Io invece faccio la seguente comunicazione. La conferenza dei capigruppo di martedì 26 marzo, l'altro ieri, con grande soddisfazione, ha preso atto della decisione presa dal grande ufficiale Pietro Fraire, già sindaco di Bra per due mandati tra gli anni 70 e 80, consigliere regionale, tra le altre cariche, oltre che presidente anche della Cassa di Risparmio di Bra, di fare dono alla città di Bra e tramite di essa alla biblioteca civica Giovanni Arpino, della sua personale biblioteca, costituita di un prezioso fondo librario che conta 450 volumi di vario contenuto, soprattutto storico, letterario e politico. Frutto, come si legge nella nota in cui il donatore ha reso pubblica la sua decisione, frutto del suo amore coltivato per tutta una vita, per la cultura, la storia e l'arte, e in particolare del nostro inimitabile territorio, comprendente questa biblioteca testi anche assai rari. La conferenza dei capigruppo, all'unanimità dei presenti nella suddetta seduta, ha deciso di informare con questa comunicazione, che io faccio molto volentieri, l'intero consiglio e l'opinione pubblica, facendosi interpretare del sentimento di gratitudine per questo dono, da parte di un nostro concittadino, che ricordo via via è stato, ed è, giornalista, scrittore, è stato insegnante, è stato uomo politico, ma soprattutto direi è stato un fine intellettuale, ed è un fine intellettuale ed un arguto testimone della cosiddetta braidesità, braidesità, più lucida e più pura. I capigruppo hanno altresì espresso la raccomandazione che di tale importante fondo librario possono beneficiare i cittadini tutti, non appena gli imminenti lavori presso la nostra biblioteca Giovanni Arpino, ne rendono possibile un'opportuna e degna collocazione, e in modo anche tale da indicare, con una targa, da apporsi, perché faccia apprezzare ulteriormente il valore culturale e materiale della donazione. Mi pare questa una buona notizia per la nostra comunità, oltre che per il valore, certamente, materiale di un ricco fondo librario, soprattutto per l'affetto e l'amore con cui il donatore ha deciso di rendere omaggio alla città, che è la sua città, che è la nostra città. Grazie veramente da parte dell'intero Consiglio e dell'intera amministrazione comunale. Consigliere Elena, prego. Ma sì, grazie Presidente, ma anch'io volevo unirmi a quanto ha già ben spiegato lei con questa comunicazione e quello che abbiamo appunto visto già nella conferenza dei capigruppo già due volte, e ribadire praticamente le parole che ha già detto lei, ringraziare veramente di cuore questo nostro concittadino, il grande ufficiale Piero Fraile per questa importante donazione, proprio specificatamente per la collettività, perché io ho avuto anche, abbiamo visto in conferenza del capigruppo, ho dato una scorsa ai libri, sono tutti dei testi sulla storia politica, storia locale, anche di un certo pregio, e quindi penso che la collettività debba apprezzare una donazione di questo genere e mi sembra giusto ricordarlo in questa assemblea massima dell'amministrazione, perché appunto proviene da un cittadino che, come ha ribadito bene il Presidente, è stato una persona importante, è ancora una persona importante, perché dal punto di vista politico è stato sindaco, è stato anche consigliere regionale, presidente della Cassa di Risparmio, uomo di grande cultura, unita anche a un grande senso dell'umorismo, molto, che sapeva coniugare proprio la sua grande cultura, anche però a livello, io ho anche esperienze, perché ci sono conoscenze familiari, quindi anche soltanto una discussione di un quarto d'ora, mezz'ora, non discussione, parlare con lui ti apriva anche soltanto la mente, perché potevi parlare della cosa più banale, le cose massimi sistemi e lui sa coniugare veramente con la sua grande esperienza, cultura, veramente portare terra a terra anche delle cose che a volte magari uno dice non so niente e veramente parlando con lui, veramente una persona di grande, grande cultura e mi fa piacere che questa donazione vada a favore di tutta la collettività e come abbiamo detto nella mozione che lei ha letto, quando ci sarà poi l'occasione, quando la biblioteca avrà gli spazi che così possano essere inseriti in questo luogo e che così tutta la cittadinanza possa usufruire di una donazione così importante. Quindi lo ringrazio ancora, come ha fatto già lei Presidente, a nome del nostro gruppo penso che sia una cosa all'unanimità. Grazie, un grande. Grazie a lei, consigliere Elena. Consigliere Milazzo, prego. Grazie Presidente. Anch'io, a nome della maggioranza, mi associo ai ringraziamenti al grande ufficiale Cavaliere Fraire perché è una grande donazione che gli fa la nostra città, in modo particolare ai nostri concittadini. Non aggiungo nulla a ciò che ha già detto e espresso lei, a nome di tutti i presenti, quindi del Consiglio Comunale, perché i rappresentanti, i capi gruppo che erano presenti alla riunione, rappresentavano tutti noi. Anch'io dei ricordi personali del Cavaliere Fraire, ricordi personali perché mio padre ha lavorato con il suo per molto tempo nella bottega di Via Pollenzo e devo dire che la grande disponibilità al colloquio è sempre stata una sua prerogativa, sia con mio padre che è stato un grande socialista, quindi di estrazione diversa rispetto a quella del grande ufficiale, sia anche con me che ero già ragazzina in questo. E devo anche ringraziarlo che nonostante il suo peso si è fatto ben tre piani di scale quando mio padre è morto per rendergli omaggio. Grazie comunque, non solo a livello personale, ma a nome della maggioranza per questo dono. Grazie, Consigliere Milazzo. Consigliere Marengo, prego. Grazie, Presidente. Sarò velocissimo perché anche io desidero ringraziare il grande ufficiale Piero Fraire per questa donazione così importante, non soltanto dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. L'altra sera, in occasione della conferenza di Capigruppo, abbiamo tutti dato una scorsa ai titoli dei libri e devo dire che sarò uno dei primi ad usufruire dalla possibilità di leggerli nel momento in cui saranno disponibili nella biblioteca. Come lei ben ricordato, il grande ufficiale Fraire rappresenta la braidesità e è uno di quei personaggi che nell'immaginario collettivo veramente rappresenta la nostra città. Uomo di grande intelligenza, eclettico. Ho un ricordo personale di quando, preparando la tesi, andai a chiedergli informazioni e mi raccontò tutta una serie di aneddoti sulla Resistenza e sul periodo 43-45. Qui a Bra, da lui vissuti, essendo ancora bambino, ma poi riferiti da altri, mi aveva fatto capire che la storia, oltre a essere grande, a volte può essere anche la storia dei piccoli, degli uomini, delle persone. La storia spesso dimenticata, ma che è, ahimè, spesso tragicamente testimone di lutti e di tragedie. Questa sua passione per la storia lo si vede nell'elenco dei libri, perché sono libri soprattutto legati al pensiero liberale, giolittiano, dell'Italia rinascimentale, non solo, ma anche l'amore per la filosofia. Credo che lei abbia potuto vedere titoli davvero pregiati. Quindi credo che a nome di tutta la cittadinanza non si possa che ringraziare il commendatore Piero Fraire proprio per questa sua generosità che ovviamente fa di lui una persona non soltanto intelligente, come abbiamo ricordato, ma stimabile proprio da questo punto di vista, perché questi potevano essere i libri della sua biblioteca privata, se ne priva per poter dare a tutti i braidesi la possibilità di leggere e ampliare il proprio orizzonte culturale. Cosa che in momenti come questi, in cui la cultura in questo Paese è tragicamente, spesso e volentieri, indipendentemente dai colori politici, dai governi che si susseguono, che vede diminuire le dotazioni, questo è sicuramente un bel pensiero, questo è sicuramente un input a tutti coloro che amano la cultura e che vogliono rendere la cultura il più possibile partecipe a tutti. Quindi non posso che unirmi ai ringraziamenti. Grazie al consigliere Marengo. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente. Come gruppo anche noi ci uniamo alle parole che sono state dette nel ringraziare il grande ufficiale Fraire per il suo dono. Vogliamo sottolineare come alcune persone siano talmente legate al proprio territorio e in questo caso dobbiamo dire alla propria città da donare una parte considerevole dei loro veri, ma soprattutto sono convinto che sia una donazione di una parte affettiva anche, perché conoscendo il personaggio, la sua cultura, la sua sicuramente abitudine a leggere, penso che sia stata una collezione che ha costruito in parecchi anni durante tutta la propria vita. E quindi donarla e privarsene a favore di chi della collettività braidese è veramente un gesto da sottolineare con una targa sicuramente, ma con un ricordo continuo a tutti i braidesi che potranno usufruire di questo patrimonio, un ricordo di una persona che era così legata alla sua città e al suo territorio e da donare una parte considerevole in maniera affettiva, immagino sicuramente, della propria vita. Grazie. Grazie, consigliere Panero. Ha chiesto la parola al sindaco. Credo che sia un gesto molto importante quello che è stato fatto da parte del grande ufficiale Piero Fraire nel donare alla sua città una parte della sua consistente raccolta di libri credo che sia un elemento positivo quello che rimessa a posto col progetto che è in via di attuazione della biblioteca vi sia l'inserimento di questi libri che possono essere messi a disposizione della collettività e che possano arricchire il già importante patrimonio di cui dispone la nostra biblioteca. È un segnale come in altre numerose occasioni dei cittadini fanno delle donazioni in questo caso si tratta di una donazione presevole e importante soprattutto rispetto all'aspetto culturale della nostra collettività. E quindi un grazie sentito. grazie se non ci sono più ci sono ancora interventi prego consigliere Maju questo era un tema di capogruppo sì anch'io insomma volevo dire due parole su questa donazione molto spesso capita un po' a tutti di passare a volte vicino alle bidoni di carta e vedere come qualcuno butta un libro ed è sempre un impatto molto forte molto brutto perché è come è come gettare via la conoscenza invece fare una donazione simile così importante così grande anche di valore non solo economico ma anche affettivo perché questi libri accompagnano una persona per tutta la vita io oggi stesso sto finendo un libro e mi verrebbe difficile regalarlo subito perché si crea già una connessione e quindi vorrei ringraziare assolutamente il dottor Freire che non conosco personalmente per l'importante donazione che ha fatto la nostra città vorrei ringraziare assolutamente anche tutte le altre persone che in questi anni hanno donato i libri e chiunque in futuro donerà dei libri alla nostra cittadinanza è un bene insomma che non fa altro che arricchire non solo la nostra biblioteca ma l'intera comunità grazie grazie anche a lei mi pare che non ci sono più richieste di intervento quindi possiamo passare all'unica interrogazione che è stata presentata dai consiglieri Somalia Elena e Marengo in merito alla realizzazione dei nuovi passaggi pedonali in via Bisconti Venosta nella frazione Bandito quindi uno dei tre consiglieri è pregato di illustrare consigliero Somalia prego in seguito ai lavori che abbiamo esposto nell'interrogazione ci sono pervenute da parte di numerosi abitanti della frazione di Bandito diciamo delle considerazioni in merito al fatto che purtroppo ci sarà più difficoltà di parcheggio di fruizione di quei pochi esercizi commerciali che sono presenti in zona l'altro aspetto è quello legato alla realizzazione dei dossi dossi tra l'altro di una di un'altezza abbastanza importante e che al momento in cui abbiamo redatto l'interrogazione non avevano segnalazione poi so che qualche lavoro è stato fatto ma mi risulta che la segnalazione del dosso sia ancora carente grazie consigliere Somalia risponde l'assessore Messa prego sì in merito della sua interrogazione registro però che la stessa è stata protocollata quando la segnaletica dei dossi dei parcheggi era stata realizzata è stata realizzata la mattina stesso in cui è stata protocollata l'interrogazione nello specifico preciso che viene sempre consigliato di ritardare di qualche giorno la segnaletica orizzontale rispetto alla posa dell'asfalto per evitare che quest'ultimo assorba il colore tant'è che immediatamente dopo la realizzazione dei dossi gli stessi sono stati coperti di sabbia proprio per poterli far asciugare aggiungo però inoltre che rispetto a circa i nove posti parcheggi di fronte alle attività commerciali che lei citava così come è discusso in una riunione in Ascom alla presenza degli stessi commercianti del collega Massimo Borelli si è concordato che sarà discolario di un'ora a finire di garantire ricambio in omogeneità con i parcheggi già presenti di fronte alla piazzetta grazie all'assessore Messa c'è il diritto di replica consiglio Sommaglia prego brevemente intanto è vero che la data di protocollo ma è colpa del consigliere Marengo che il giorno 19 non l'ha inviata via fax detto questo intanto ci dovrà essere probabilmente un controllo sull'utilizzo del disco orario perché anche con la presenza dell'ufficio postale il flusso di veicoli ma l'utilizzo di parcheggi è notevole oltretutto di questi giorni la notizia anzi la chiusura dell'unico sprotello bancario che ancora insisteva nella frazione di bandito e quindi presumo che molti molti cittadini di bandito usufruiranno in maniera più massiccia delle poste quindi in quella zona lì che è già molto stretta la viabilità è comunque già difficile e precaria ci sarà probabilmente un'ulteriore difficoltà i posti macchina per carità sono probabilmente i medesimi di prima ovvio che col posizionamento dei dissuasori non c'è più la possibilità della sosta anche per qualche minuto per usufruire delle attività commerciali che ci sono in zona probabilmente bisognava cercare una soluzione diversa grazie grazie allora andiamo avanti con l'ordine del giorno passiamo alla prima delle due mozioni entrambe presentate dal consigliere Amagiu la prima ha per oggetto la richiesta di impegno del governo per la liberazione di Silvia Costanza Romano prego consigliere Amagiu grazie presidente gentili colleghi vorrei dire due parole insomma siamo davvero al termine di questa legislatura possiamo dire che è l'ultimo consiglio comunale tolto con l'ordinario del mese prossimo i cinque anni sono volati sono passati molto in fretta e a tratti in alcuni fasi sembrava andasse molto a rallentatore questo dipendeva molto dal tema che si trattava in quel momento mi viene in mente quella questione ospedale di Verduno la questione acqua verso la quale sono felice di dire di essere sempre stato della stessa idea della stessa posizione per la quale molto abbiamo combattuto anche durante il referendum le idee e le visioni di una società migliore sono insomma le ragioni per le quali vale la pena impegnarsi sono i motivi che un po' ti danno quello spirito di attivista anche nel fare politica per cambiare meglio la nostra comunità per le idee sulla questione acqua sono contento che la notizia di ieri che ho mandato un messaggio al sindaco che si è conclusa insomma nella direzione che auspicavamo in questi anni abbiamo cercato insomma tutti di dare il nostro contributo per la crescita della nostra comunità presentando mozioni interrogazioni consigli idee di progetto e in questi anni la nostra città è diventata sempre più internazionale a partire proprio dalle comunità migranti che qui vivono e lavorano i nuovi cittadini di 73 nazionalità diverse che vivono nel nostro territorio poi ci sono gli studenti che da ogni parte del mondo che frequentano la nostra università e il turismo che vede arrivare sempre più stranieri quindi anche il nostro impegno non è più solo legato a buche sulla strada piuttosto che alla raccolta differenziata questioni prettamente locali ma c'è una visione più regionale più nazionale internazionale e in diverse occasioni sono state portate emozioni non di competenze della nostra amministrazione ma che nonostante fossero avessimo un ruolo piccolo il nostro piccolo può avere un ruolo importante invece ed è per questo che ho presentato questa mozione non di competenza della nostra amministrazione naturalmente ma una mozione che vuole esprimere insomma innanzitutto la posizione della nostra città nei confronti di una nostra con nazionale che svolge un lavoro fondamentale in Kenya quindi Silvia Romano Silvia è tra gli italiani che con il loro fondamentale contributo in giro per il mondo riescono a rappresentare un'Italia migliore diversa dagli stereotipi un'Italia fatta di giovani e meno giovani e menti brillanti di persone solidali vicine ai bosognosi un'Italia fatta di competenze e conoscenze e Silvia non rientra nei ragazzi come si dice fuga di cervelli bensì nella condivisione dei cervelli perché lei vive ancora tutt'oggi a Milano Silvia Romano aveva solo 23 anni ed è oltre insomma al suo impegno sociale era un'istrettrice di ginnastica a Milano e insieme alla sua associazione Africa Milele Ollu seguiva progetti educativi a favore dei bambini e il 20 novembre è stata rapita nel villaggio di Chakama nel sud del Kenya in quel villaggio in realtà lei era già stata in passato e si sentiva a casa ha creato una seconda famiglia ha creato una famiglia affettiva ma rimaneva comunque un villaggio rischioso nel quale non sarebbe dovuto andare però l'attenzione mediatica per il suo caso è molto bassa e serve che anche da qui facciamo sentire insomma la nostra vicinanza e proprio ieri infatti il 27 marzo sul Corriere della Sera si ricordava come tra Italia e Kenya si è in atto un vero e proprio scontro per le indagini sembra che l'ultima richiesta per essere autorizzati a inviare un pool di investigatori ai Nairobi è stata trasmessa via Interpol tre giorni fa ma ancora una volta dalle autorità locali non è giunta alcuna risposta e così se ne ha spritto lo scontro tra l'Italia e il Kenya sulla sorte di Silvia anche perché dallo Stato africano purtroppo appunto non è giunta alcuna notizia e al trascorrere dei giorni aumentano i timori non ci siamo dimenticati assolutamente di altri eventi che grazie alla forza dell'opinione pubblica sono uscite a galla e mi viene in mente il caso anche di Stefano Cucchi dove i carabinieri hanno infangato il simbolo dell'arma la divisa dell'arma ma allo stesso momento vorrei ricordare il grandissimo coraggio e ammirazione e la professione dei carabinieri che qualche giorno fa hanno salvato i 50 bambini in quel tentato attentato terroristico e non si sarebbero avuti nemmeno quel poco che si è avuto su Giulio Regeni se non ci fosse stata un'opinione pubblica attiva su questo e questo penso che sia un di quei casi dove i cittadini e il cittadino può e deve fare tantissimo qui non lo facciamo come semplici cittadini ma come amministratori di un'intera comunità come rappresentanti di un'intera comunità quindi con questa mozione vorrei chiedere insomma delle cose molto semplici che possono essere fondamentali e sicuramente molto importante per chi subisce una situazione simile quindi esprimere la solidarietà e sostegno e vicinanza alla famiglia e all'organizzazione che in questo momento è difficile per l'organizzazione e per la famiglia a nome del Consiglio Comunale e chiedo insomma all'amministrazione comunale di inviare anche questa mozione al Presidente della Regione al Presidente del Consiglio e dei Ministri affinché sensibilizzati possano assumere ogni iniziativa di competenza e qualcuno può pensare che la Regione non abbia competenza ma la Regione essendo un ente che ormai da anni svolgono cooperazione internazionale hanno importanti connessioni con i territori e possono fare moltissimo e infine chiediamo al Governo italiano di impegnarsi a promuovere in tutte le sedi istituzionali opportune con particolare riferimento all'Unione Europea oltre che al Kenya affinché si attivano per la liberazione di Silvia grazie grazie al Consigliere Maju è aperta la discussione si può intervenire Consigliere Marengo prego grazie Presidente non si può che non essere d'accordo con quanto portato in aula oggi tramite l'emozione dal collega Maju la nostra connazionale dedica tempo energie a fare del bene poteva essere una ragazza con mille altri interessi con mille altre passioni ha deciso di spendere il tempo e le sue energie a favore degli altri e come lei tantissimi altri ragazzi italiani uomini e donne italiane dedicano ai meno fortunati le loro energie le loro risorse e il loro tempo in tutta questa emergenza c'è secondo me un dato però positivo per quello che ho potuto capire per quello che ho potuto leggere quello che si è evinto dagli articoli di giornale chi ha rapito questa ragazza non è un gruppo estremista non è un gruppo terrorista ma è probabilmente un gruppo di delinquenti comuni interessati probabilmente solo ad un riscatto paradossalmente questo costituisce un vantaggio perché sono interessati a mantenere in vita l'ostaggio per poter riscuotere poi il riscatto sicuramente non essendo a conoscenza dell'operatività delle forze dell'ordine keniane e kenyote non si può avanzardare dei giudizi però ricordo di aver letto che poteva essere tenuta in ostaggio in una zona al confine tra il Kenya e la Somalia battuta e frequentata da bande di sciuftà cioè di banditi veri e propri l'altra sera quando il consigliere Amajou ha presentato in conferenza capigruppo la mozione si era anche parlato del fatto che i giornali o comunque gli organi di stampa italiani non dessero abbastanza risalto a questa informazione c'è anche da dire la storia ce lo insegna ma anche con rapimenti in Italia negli anni 70 80 che più il tam tam mediatico è forte sul sul rapimento e più il rapito rischia perché la la banda che lo detiene che lo tiene in ostaggio può essere impaurita e quindi magari pur di non essere scoperta può ricorrere a dati estremi purtroppo viviamo in un mondo in cui in determinati paesi dove spesso il volontariato ha la sua ragione d'essere esistono zone d'ombra come quella che è sotto gli occhi di tutti in Kenya detto questo però non si può che concordare con questa mozione ovviamente il riportare a casa sana e salva questa ragazza sperando di non pagare un riscatto ma non per il vil denaro semplicemente per non dare adito in futuro ad altri rapimenti proprio perché si pensa che lo Stato italiano possa pagare il riscatto però è obbligo è obbligo di qualsiasi paese difendere i propri cittadini in patria e all'estero quindi non posso che essere d'accordo con quanto detto dal consigliere Maggiù e voterò favorevolmente nel momento in cui ci sarà la votazione per questa mozione grazie grazie consigliere Marengo io a nome della maggioranza esprimo parere favorevole al testo di questa mozione presentata dal consigliere Maggiù perché ne condividiamo lo spirito ne condividiamo anche l'urgenza perché effettivamente dal 20 novembre notizie rassicuranti non ce ne sono ma non ci sono per la verità proprio notizie nel senso che dopo i primi giorni in cui la polizia Kenyota aveva annunciato l'arresto di qualche bandito è caduto il silenzio in parte ovviamente un silenzio dovuto a motivi di ordine inquirente investigativo diciamo così in parte anche perché la stessa famiglia per non compromettere le indagini ha chiesto e sta ancora chiedendo appunto il doveroso silenzio purtroppo non è il primo caso che riguarda cooperanti ecco non tanto volontari ma cooperanti italiani ricordiamo ancora tutti quelle che i giornali chiamavano le due Simona Simona Pari Simona Torretta ricordiamo Rossella Urro per citare soltanto i casi che hanno occupato di più negli anni scorsi le pagine dei giornali e anche le trasmissioni dei telegiornali ha detto bene il consigliere Maggiù la nostra città ovviamente non può fare nulla da un punto di vista operativo può però tenere alta e desta l'attenzione può tenere alta e può tenere destra la propria dichiarazione di vicinanza se non per quanto le parole possano valere in questi casi e può soprattutto tenere alta la consapevolezza che in giro per il mondo ci sono giovani ma anche meno giovani che hanno una visione del mondo dei rapporti interpersonali dei rapporti internazionali all'insegna non soltanto di quello che potrebbe essere il cinismo l'indifferenza l'interesse il tornaconto ma uno sguardo molto più largo che abbraccia i valori di fondo per cui siamo tutti uomini al di là del luogo in cui abitiamo della lingua che parliamo e della religione in cui ci riconosciamo proprio ieri il Corriere della Sera come già è stato citato ha parlato di questi non diciamo ancora crisi diplomatiche ma di questi attriti tra il nostro Stato e quello del Kenya perché pare che le autorità di Nairobi non vogliano rispondere alla richiesta fatta per rogatore internazionale affinché i ROS del nostro paese i nuclei speciali dei carabinieri possano collaborare in loco alle indagini per il ritrovamento della nostra concittadina c'è il timore che sia stata forse venduta addirittura a un gruppo terroristico e poi trasferita in Somalia però queste sono voci giornalistiche non si sa fino a quanto attendibili e soprattutto non si sa se sono poi sufficientemente argomentate e sufficientemente credibili mi pare che il nostro consiglio comunale abbia tutta l'autorevolezza e anche il diritto di poter esprimere solidarietà e sostegno vicinanza alla famiglia e di poter chiedere agli enti sovraordinati in particolare la regione e lo stato italiano di sensibilizzare in ogni modo quanti hanno il dovere di assumere le iniziative di competenza affinché si pervenga alla liberazione della nostra concittadina la nostra concittadina ricordiamoci che fa parte di tutta una serie di persone che naturalmente l'idiozia dei social non ha mancato di stigmatizzare di insultare addirittura con dei giudizi sprezzanti che sono andati dai più benevoli accuse che parlavano di incauta capacità di girare da quelle parti in Africa fino ad arrivare ad insulti ben più ben più gravi ecco forse anche soprattutto in considerazione di queste stupidaggini in quantità industriale che vengono tutti i giorni propalate attraverso questi strumenti di comunicazione di massa forse è opportuno fare un po' di chiarezza e la mozione di questa sera secondo noi contribuisce a fare chiarezza e a rendere il merito a persone che come lei rischiano la vita non tanto perché sono incapricciate di avventure esotiche ma quanto hanno una visione solidale dei rapporti interpersonali quindi da parte della maggioranza pieno sostegno alla mozione consiglier Somaglia prego grazie presidente io sarò breve perché è già ampiamente intervenuto e bene consigliere Marengo tanto volevo esprimere anche da parte nostra il voto favorevole per questa mozione di rado ci siamo trovati d'accordo sugli ordini del giorno le mozioni presentate dall'amico consigliere Hab però questa volta sposiamo appieno il testo che è stato presentato volevo però anche ricordare come ha già fatto il presidente che altri nostri connazionali sono ancora purtroppo nelle mani di organizzazioni terroristiche o meno in giro per il mondo qualcuno l'ha ricordato il presidente mi premeva anche ricordare padre Paolo Dall'Oglio che da ormai più di cinque anni è nelle mani pare di terroristi dell'Isis pare e che da cinque anni non si hanno più notizie anche padre Dall'Oglio che è un padre gesuita era da anni in Siria un territorio che da quello si legge amava particolarmente in cui portava la sua esperienza di padre e l'esperienza della sua vocazione a favore di territori martoriati grazie grazie a lei consigliere Tripodi prego grazie presidente ringrazio il consigliere Amagiu per questa mozione alla quale come gruppo Bradomani esprimiamo parere favorevole anche noi condividiamo l'intento di questa mozione dobbiamo fare in modo che organi di stampa e quant'altro mettano a fuoco questa questa problematica un problema serio gli italiani che vanno in Africa ma in tanti altri territori a contribuire in quello che è un sostegno un aiuto in casa loro quello che magari in tanti chiedono oggi debbano essere tutelati debbano essere tutelati e quindi lo Stato italiano non deve non deve essere assente con tutte le forze possibili quindi noi sposiamo appunto la richiesta per esprimere solidarietà e sostegno alla vicinanza alla famiglia all'organizzazione in questo momento difficile e siamo convinti che sia giusto fare in modo che questa richiesta venga portata agli organi che sono sovracomunali la regione lo Stato quindi interventi più decisi per difendere tutti coloro i quali aiutano in paesi esteri e danno un proprio contributo a quello che è il miglioramento e lo sviluppo di territori veramente martoriati grazie grazie a lei mi pare che tutti i gruppi si siano espressi se non ci sono più interventi possiamo mettere allora ai voti se siamo d'accordo quindi possiamo mettere ai voti il testo della mozione quindi solita procedura segnaliamo la presenza è assente il consigliere Marengo sì e manca l'Asia quindi siamo 15 va bene su 17 possiamo allora votare la votazione è chiusa quindi la mozione è approvata all'unanimità bene passiamo allora alla mozione successiva il punto 4 dell'ordine del giorno il presentatore è ancora il consigliere Amagiu oggetto della mozione bra città amica del clima e porte aperte degli esercizi commerciali prego consigliere Amagiu questa mozione vuole essere sensibilizzare sul tema climatico sul cambiamento climatico il cambiamento climatico è una crisi presente che richiede uno sforzo immediato e corale dell'umanità intera ogni nostra scelta farà le differenze perché il motore del cambiamento è la somma delle nostre azioni individuali e anche Abra ha avuto un ruolo importante in questi anni nel promuovere campagne di sensibilizzazione come mi illumino di meno ma le campagne a volte non sono abbastanza ma serve a trasformare questi spot di sensibilizzazione in azioni concrete oppure da Abra è partita la campagna internazionale di menu for change portata avanti da Slow Food internazionale che è stata la prima campagna internazionale che mette in relazione cibo e cambiamento climatico le emissioni agricole di produzione vegetale e animale sono tra le principali fonti di emissioni di gas serra tra cui anidride carbonica CO2 il metano CH4 e protossido di azoto N2O il sistema di produzione alimentare industriale è tra le prime cause del riscaldamento del pianeta mentre le prime vittime di questa catastrofe annunciata ci sono gli agricoltori familiari l'agricoltura familiare le economie pastorali e la pesca artigianale è proprio perché è urgente migliorare queste condizioni soprattutto perché il cambiamento è la somma di azioni individuali come ho detto prima volevo presentare questa mozione come sapete è tendenza sempre più comune di lasciare le porte degli esercizi commerciali aperte e questo comporta un dispendio di energia e un aumento dell'inquinamento atmosferico a molti sarà capitato di entrare ed uscire da attività commerciali con porte di ingresso aperte completamente alcune dotate di gettito di calore ad esempio le lame d'aria calda posizionate all'ingresso del negozio questa soluzione ed altri similari spesso dettate da logiche di marketing che cercano in ogni modo di favorire gli acquisti eliminando ogni forma di ostacolo e barriera non tengono conto delle problematiche legate all'impatto ambientale determinato dagli impianti termici sia di riscaldamento che di raffreddamento e come ci dice ISPRA l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del ministero dell'ambiente nel recente rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano negli ultimi anni sono state diverse le campagne adottate dagli enti locali sia durante periodi estivi che invernali per combattere l'inquinamento e migliorare la qualità delle nostre città tra le misure contenute nei provvedimenti adottati per esempio dal 2011 al 2017 vengono indicate possibili azioni per ridurre lo spreco energetico e tra queste ne viene introdotta una specifica che vieta appunto la dispersione di energia prodotta dagli impianti dovuta all'apertura permanente delle porte dei locali climatizzati che vede coinvolti in prima linea gli esercizi commerciali in quanto spesso hanno l'abitudine di lasciare le porte aperte per questioni di marketing in generale queste misure vengono adottate dagli enti locali tramite ordinanze che in linea di massima citano il seguente testo che vi leggo obbligo di mantenere chiuse le porte delle attività commerciali ed affini evitato l'utilizzo di dispositivi che al fine di favorire l'ingresso del pubblico consentano di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni con il conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte e gli ingressi direttamente posti verso l'esterno degli edifici sono molteplici gli enti locali che ad avere messo ordinanze simili tra questi il comune di Milano Lecco Parma Novara Reggio Emilia Pavia Vicenza Bolzano che invitano a tenere chiuse le porte di ingresso degli esercizi commerciali e delle attività commerciali produttive ad eccezione del tempo strettamente necessario del passaggio degli utenti a questi si aggiungono infine il comune di Torino di Mantua Perugia Bologna che hanno dato seguito a provvedimenti similari obbligando gli esercizi commerciali a non utilizzare dispositivi quali le lame d'aria ossia questo oggetto d'aria costante perpendicolare sulla soglia della porta d'ingresso che dovrebbe aiutare a prevenire la dispersione termica e a chiudere le porte d'ingresso dei locali poste verso l'ambiente esterno al fine di evitare inutili dispersioni termiche e raggiungere il comfort termo-igrometrico interno desiderato mantenendo costante il calore che porta anche un benessere dei cittadini che entrano il divieto in genere prevede una sanzione pecuniare per le inservanze questo è quello che hanno portato avanti tutti i comuni che ho nominato prima questa tipologia di misura è stata adottata a livello europeo già in precedenza pensate che in Gran Bretagna già nel 2010 è stata introdotta una campagna dal titolo Close the Door chiudi la porta che invitava i negozi a tenere le porte chiuse durante l'inverno per il conseguimento di risparmi energetici ai negozi aderenti all'iniziativa veniva fornito un adesivo da porre sulla porta chiusa spiegando che si tratta di azioni di energia di energy saving al supporto tecnico di questa iniziativa adottata è stato seguito dall'università di Cambridge un monitoraggio su alcune tipologie di attività commerciali riportando un esito positivo sul risparmio energetico ottenuto dalla chiusura delle porte e di conseguenza un minor costo di gestione da parte dei proprietari delle attività commerciali mentre chi operava con le porte aperte ha avuto difficoltà a raggiungere condizioni di comfort termico per tutta la giornata nonostante l'utilizzo della medaria nonostante questi studi hanno messo in evidenza altri benefici dovuti alla chiusura delle porte quale l'invarianza delle condizioni interne del clima termo-igrometrico al variare di quello esterno quando si parla di termo-igrometrico è una misurazione della temperatura della velocità del vento interna e dell'umidità e sono questi che condizionano il benessere della salute dei cittadini quindi con conseguente miglioramento del benessere e comfort interno per i dipendenti e per i clienti io questa mozione l'ho presentata dopo il 15 marzo il 15 marzo si è tenuta in tutto il mondo la marcia Friday for Future per sensibilizzare la cittadinanza in primis e i nostri leader politici di tutto il mondo per avere un'attenzione più elevata su quello che è il cambiamento climatico la qualità dell'aria è un tema sempre più importante l'inquinamento ha effetti diretti sulla salute dei cittadini ed è preoccupante constatare che Milano e Torino sono le prime due aree urbane al mondo per numero di morti premature ogni 100.000 abitanti causate da inquinamento per la maggior parte dell'inquinamento dai trasporti ad affermarlo è stato uno studio pubblicato dall'International Council on Clean Transportation organizzazione no profit che ha portato alla luce lo scandalo del Dieselgate e il report si riferisce ai dati di oltre 184 paesi nel 2015 e l'Italia è al nono posto al mondo in termini assoluti di decessi prematuri dovuti all'inquinamento secondo l'agenzia europea dell'ambiente il 95% degli europei a rischio per l'inquinamento vive nelle regioni del nord Italia ogni anno per l'organizzazione mondiale della sanità nel nostro paese si registrano 90.000 morti premature per l'inquinamento da PM 2,5 ozono o biossido d'azoto quindi questi dati ci dicono che non c'è più tempo da perdere e bisogna agire con determinazione e provare tutte le strade per riuscire a migliorare lo stato di salute dei nostri cittadini dall'ambiente e dell'aria bisogna immaginare un modello di sviluppo diverso che non provi che danno all'ambiente a partire anche dal nostro piccolo dal locale quindi con questa mia mozione che è appunto una maggiore sensibilità su un fenomeno che è considerato molto normale ma che in realtà ha effetti diretti sulla salute dei cittadini ma soprattutto per mantenere una coerenza anche un po' come amministratori perché da una parte invitiamo gli amministratori condominali a tenere dei gradi negli appartamenti ma poi tolleriamo una pratica simile quindi chiedo tre punti quindi credo che il Consiglio Comunale di Bra impegni l'aggiunta su tre punti ma dovrei modificare alcuni passi uno il primo avviare una campagna di sensibilizzazione in accordo con i commercianti al fine di aumentare la consapevolezza sui comportamenti da adottare al fine di contenere i consumi energetici prodotti dagli impianti termici l'importante fonte emissiva di NO2 il secondo punto è avviare un percorso che porti entro tre mesi ad un'ordinanza che impongano di mantenere chiuse tutte le aperture dei locali verso l'esterno che nel caso non fosse rispettato possono essere esposti a multe come avviene in varie città italiane come Novara e Bolzano valutare l'opportunità di attivare un meccanismo premiante per gli esercenti che si dotino di sistemi di ingresso che evitano il dispendio di energia anche tramite l'assegnazione di un marchio di riconoscimento da applicare sulle vetrine che testimoni il loro impegno per l'ambiente e le buone pratiche messe in atto questa è la mozione e le modifiche che vorrei riportare sicuramente è quella nella quale si chiede all'amministrazione comunale in accordo con i commercianti naturalmente io intendevo l'associazione dei commercianti quindi il rappresentante dei commercianti e poi visto che ci accingiamo alle elezioni visto come si può mantenere l'impegno dei tre mesi anche perché non sappiamo chi siederà su quei banchi e il secondo punto i tre mesi sono da modificare assolutamente avviare un percorso cancellando la parte dei tre mesi non so se il Presidente vuole naturalmente questa mozione vuole essere anche una mozione che sensibilizza insomma anche tutti noi all'interno del Consiglio Comunale e qualunque modifica e ben accetta però l'importante è che la direzione sia questa perché è un problema fondamentale importante che possiamo risolvere possiamo affrontare anche nel nostro piccolo con gesti simili naturalmente i locali che tengono aperti le porte nella nostra città sono pochi e spesso sono locali legati a catene nazionali e internazionali che impongono questo stile di marketing questo modo di fare pubblicità non sono le piccole botteghe di bra piuttosto che piccoli commercianti locali perché sanno che ha un costo eccessivo però queste catene insomma non possono mettere al primo posto il franchising e il marketing a danno dell'ambiente e della salute dei cittadini questa è la mia mozione naturalmente se ci sono disponibili a modifiche ma con un obiettivo insomma molto chiaro grazie 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 al consigliere Maju è aperta anche qui la discussione si possono fare interventi consigliere Milazzo prego con il ghiaccio allora l'oggetto di questa mozione che è stata presentata da consigliere Maju non può che essere condiviso tutti noi siamo sensibili e preoccupati e nella sua mozione io ho visto proprio la sua preoccupazione e il senso di responsabilità come amministratore per i cambiamenti climatici che in modo molto repentino troppo repentino in questi ultimi anni stanno trasformando il nostro pianeta già ne percepiamo alcuni effetti basta vedere da quanti mesi non piove basta vedere i nostri bacini idrici a che punto sono ridotti anche questo è uno degli effetti dei cambiamenti climatici è vero che il cambiamento è cominciato già con l'era industriale ed oggi inevitabilmente la gestione superficiale di ciò che tecnicamente abbiamo chiamato progresso ci mostra il suo lato scuro conosciamo infatti i danni che è già prodotto sia sull'ambiente che sugli individui e fatto nella sua relazione il nostro collega consigliere ha precisato quanti sono anche i morti prematuri nel nord Italia proprio a causa dell'inquinamento se ne aggiungeranno altri non voglio fare la portatrice di malaugurio però se ne aggiungeranno altri fino al punto di reversibilità al punto cosiddetto di rottura quindi prima che si giunga a questo punto dobbiamo trovare cercare delle soluzioni per conservare nel modo più idoneo ed efficace la forza propulsore della vita che è il clima senza clima corretto non abbiamo più vita sicuramente tutti i miei colleghi i miei colleghi consiglieri sono a conoscenza del rischio che corre la nostra madre terra circa quattro anni fa ce lo ha ricordato la massima autorità della chiesa italiana al Papa Francesco nell'enciclica rivolta non solo ai cattolici di questa nostra Italia ma a tutti gli uomini di buona volontà la laudato si anche nella nostra città se ben ricordo sono stati avviati dei momenti di studio e confronto a livello cittadino su questa tematica ce lo ricorda Greta Thunberg e con lei i giovani tutto il mondo che manifestano nel Free Day for Future le sfaccuttature di questo grave problema a parere unanime della maggioranza sono numerose tant'è che in questi anni l'amministrazione si è prodigata in molti interventi su edifici pubblici e l'inquinamento causato da una scorretta gestione dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento è una di queste sfaccettature effettivamente ci si potrebbe chiedere un cittadino diciamo superficiale che non tutti ovviamente si informano nei giornali si potrebbe chiedere ma che cosa c'entra Bra che cosa c'entra il consiglio comunale io penso che con una similitudine che l'oceano è fatto di gocce d'acqua ed ognuna ha la sua importanza nel formare il tutto la nostra Bra è parte integrante della terra per quanto piccola sia la nostra Bra la nostra città le scelte dei singoli cittadini e da maggior ragione di chi gestisce il commercio possono essere scelte per la vita una buona vita di qualità o per la morte seppure lenta dei nostri figli ed è compito di un'amministrazione cittadina cosciente ed efficiente cercare soluzioni allo spreco energetico e dall'inquinamento derivato dal consumo di alcune fonti di energia pertanto a nome della maggioranza chiediamo di impegnare la giunta ad avviare un tavolo di lavoro con le associazioni di categorie quindi in questo mi associo alle modifiche che ha proposto lo stesso consigliere Amagiu perché solo attraverso le associazioni di categorie potremmo raggiungere anche i singoli commercianti i singoli esercenti tutto ciò al fine di individuare buone pratiche sul tema affrontato da questa mozione ed esplicitato anche nelle premesse molto bene che portino ad individuare provvedimenti di divieto nell'utilizzo indiscriminato delle porte aperte ed alcolgo la modifica nel non delimitare nel tempo quindi la possibilità di attuare questi obietti negli esercizi commerciali cittadini ed individuare in modo molto positivo e favorevole i sistemi premianti per cui delegherei ad un tavolo di lavoro con le categorie di rappresentanza commerciali questo studio sono d'accordo comunque con quanto anche il consigliere ha già proposto sul fatto di modificare nel primo punto alziché mettere i commercianti quindi non una trattativa con i singoli commercianti ma con le associazioni di categoria e di condensare il secondo punto e il terzo in un unico punto quindi metterei di aggiungere un percorso attraverso istituzioni e un tavolo di lavoro con le associazioni di categorie della città per individuare iniziative e buone pratiche sul tema cambiamenti climatici che portino provvedimenti di divieto di tenere la porta aperta nei negozi se non in funzione se sono in scusate se sono in funzione sistemi di riscaldamento o di raffordamento noi pensiamo che comunque si debba giungere a delle soluzioni tecniche attraverso un tavolo di lavoro e questo lo esprimo a nome della maggioranza grazie grazie chiederei se per caso avesse un testo con queste modifiche così almeno è più facile la sì sì ma magari nel frattempo tanto il dibattito penso che continui se riesci poi a grazie aveva chiesto la parola il consigliere Tripodi prego grazie presidente inizio a a preoccuparmi perché Abderrahman ha presentato spesso e volentieri emozioni a quanto pare oggi le sta andando bene tutte tutte con parere le più favorevoli ne potevi portarne altre che così magari passavano anche ma vabbè una piccola battuta al consigliere amico Abderrah un argomento importante mi ricollego al discorso all'intervento fatto dalla consigliera Milazzo Bra è un puntino della mappa mondiale e sono d'accordo che le buone pratiche sono diciamo un gesto e possono essere un punto di partenza per far sì che altri territori possano prendere spunto da queste buone pratiche il fatto che negozi commercianti e quant'altro utilizzano quello che viene chiamata la lama d'aria che appunto è quel getto di aria calda fredda a seconda delle stagioni per evitare che il fresco all'interno si disperda all'esterno e viceversa l'inverno è un qualcosa che provoca sì un consumo di energia importante e considerevole consapevole che ogni buona pratica anche di ogni singolo può modificare il mondo sono anche convinto però che ogni buona pratica deve essere messa in atto vedendo le condizioni concrete e reali in cui si trova la nostra città come ben diceva prima il consigliere nella nostra città pochi forse ne ho contati uno se non mi sbaglio o due negozi utilizzano cioè passeggiando per la città perché questo anche il nostro ruolo utilizzano questa tipologia di questo strumento della lama d'aria innanzitutto poi magari possiamo parlare anche di quello che possono essere le alcune correzioni innanzitutto d'accordo nell'inserire all'interno di questa mozione la necessità di aprire un tavolo di confronto con quelle che sono le associazioni del commercio presenti nella nostra città anche perché oltre a sanzionare io ritengo che sia fondamentale dare un segnale un incentivo diciamo anche reputazionale che sia in grado di qualificare esternamente i vari negozi e quant'altro che chiudono la porta e quindi poter parlare di negozi amici amici dell'ambiente e lì possiamo trovare qualsiasi nome sono d'accordo che debba passare il messaggio di che ognuno di noi faccia la sua parte ogni attività commerciale faccia la sua parte per il bene che poi è un bene comune quello di avere un'area pulita un ambiente meno inquinato ma ritengo anche che queste azioni debbano essere fatte non da delle gocce perché in qualche modo questo può anche toccare quella che potrebbe essere una concorrenza sleale nel senso che noi dobbiamo secondo noi in questa mozione richiedere sì l'intervento a livello regionale per apportare una modifica che porti a tutti quanti le stesse condizioni ma in questa fase diciamo preventiva primordiale il nostro comune si deve fermare in quello che può essere veramente la all'aspetto più importante cioè la reputazione quando vediamo i negozi che hanno la porta chiusa deve essere visibile il fatto che quel negozio sta facendo qualcosa per noi per i nostri figli e per le generazioni future e può essere anche motivo di scelta per dire io vado anche in quel negozio perché so che mantiene dei comportamenti che sono diciamo attenti all'ambiente mi fa sempre un po' paura pensare di inserire anche minimamente in futuro quello che potrebbero essere sanzioni in un settore che è già messo seriamente in difficoltà se sono pratiche di marketing e pensiamo al fatto che queste pratiche di marketing vengono effettuate da multinazionali o comunque da catene importanti dove impongono di lasciare aperte le porte aperte pensiamo se nella nostra città domani si insediassero tanti negozi che fanno parte appunto di multinazionali che magari porterebbero all'interno della nostra comunità ricchezza lavoro e quant'altro e che nella loro operazione di marketing è quello di lasciare le porte aperte noi c'è libertà il mercato ci impone una libertà e una concorrenza che sia uguale per tutti lo so è una concorrenza diversa molto sottile ma ritengo che qui ci sia bisogno veramente perché il il tema è seriamente importante di una normativa che vada a fronteggiare questa che potrebbe essere uno dei tanti tasselli che continua a far sì che il nostro ambiente purtroppo peggiori di anno in anno ma parlo non soltanto del nostro Piemonte parlo dell'Italia intera del mondo intero venga affrontato in sede di Consiglio regionale in sede parlamentare credo che sia molto più efficace qui si è considerato che concretamente nella nostra città perché poi bisogna essere sempre molto concreti possiamo dare un segnale ma andando nella nostra città vediamo che questa cosa qui accade veramente sarà una percentuale del un per cento quindi è più una questione di sensibilizzare quindi che noi approviamo che noi ne siamo favorevoli ma credo che non ce ne sia la necessità di prevedere o di impegnare la giunta in quello di possibili sanzioni incentivi reputazionali sì sanzioni no sanzioni sì se queste sono parte di un processo che metta tutto il commercio nelle stesse condizioni perché guardate bene un piccolo negoziante un negozio che viene portato avanti dalla a livello familiare difficile che lasci o che inserisca nel proprio nel proprio negozio nel proprio locale una lama d'aria perché è costosa è costosa nell'acquisto è costosa nel mantenimento e spreca molta energia elettica e le bollette sono anche molto care quindi se per un messaggio molto assolutamente favorevole ma sono consapevole e convinto che alcune questioni innanzitutto con un tavolo in confronto con le associazioni dei commercianti secondo con procedure che impegnino anche coloro i quali governano sopra di noi grazie grazie a lei consigliere tripodi consigliere marengo prego grazie presidente mi scuso per la votazione di prima c'è stata una chiamata urgente idealmente comunque il mio sì come avevo preannunciato lo confermo ma io devo fare una premessa ho alle mie spalle studi umanistici e quindi dal punto di vista scientifico non posso dire di avere una preparazione concreta però da molto tempo sto seguendo ma per una mia curiosità personale il dibattito che sta avvenendo sui cambiamenti climatici non si può non notare che esistono posizioni contrapposte da una parte scienziati che dicono che il clima della terra sta cambiando a causa dell'inquinamento e quindi a causa dell'uomo mentre dall'altra parte ci sono scienziati che dicono che sì il clima della terra sta evolvendo non sta cambiando sta evolvendo ma come è avvenuto in milioni di anni sulla terra proprio perché il nostro è un pianeta nonostante l'età ancora giovane quindi in continua evoluzione oggi mi riesce difficile nonostante le marce a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi dare un giudizio su quello che sta avvenendo sul nostro pianeta proprio perché non ho una preparazione scientifica alle spalle tale da poter dare un giudizio esatto però mi colpiva molto quello che un paio di scienziati italiani importantissimi Carlo Rubbia premio Nobel per la fisica nell'84 e Antonio Zichichi dicono da alcuni anni e cioè che il clima della terra sta cambiando ma in maniera naturale come è avvenuto nel corso dei secoli ho assistito in streaming ovviamente ad una audizione di Carlo Rubbia nel 2017 presso la commissione ambiente del senato e c'era una cosa che disse il senatore Rubbia che mi colpì molto disse che Annibale quando attraversò le Alpi quindi stiamo parlando di duemila e duecento anni fa poté farlo perché il clima allora era di un grado e mezzo in media più alto rispetto a quello di oggi quindi non essendoci strade le vie erano più libere rispetto ad oggi oggi non avrebbe più potuto attraversare le Alpi soprattutto non soltanto per le condizioni stradali ma proprio per le condizioni climatiche io credo che si stia mettendo insieme due problemi non diversi ma non necessariamente connessi da una parte il cambiamento climatico che come alcuni scienziati spiegano e ripeto io non ho la competenza scientifica per dire se hanno ragione o meno ma che considerano naturale tanto per fare un esempio intorno all'anno 1000 ci fu quella che in Europa venne definita una piccola glaciazione quindi il clima per decenni fu molto più freddo rispetto al normale e nell'anno 1000 non c'era l'inquinamento non c'era il CO2 c'erano molti meno abitanti su questo pianeta che potessero inquinare e quindi era considerata una naturale variazione del clima dall'altra parte abbiamo le emissioni di CO2 di anidride carbonica questo sì un dato importante che è sotto gli occhi di tutti tutti i giorni tutti i giorni vediamo le nostre città attraversate da migliaia di macchine milioni di macchine se si considera il fatto che viviamo in un paese assolutamente assuefatto ormai all'utilizzo dell'automobile e un po' meno dei mezzi pubblici e questo crea anche per la geografia soprattutto della pianura padana qui del nord una mancanza di riciclo d'aria e questa problematica fa sì che l'inquinamento sia altissimo tutte le nostre città sono state costantemente chi più chi meno hanno più hanno meno purtroppo afflitte dallo sforamento delle polveri sottili ecco io non so dire se quel negozio di bra o quei due negozi di bra o quei tre negozi di bra che utilizzano questo sistema di riscaldamento o di raffreddamento oltre come diceva il consigliere Tripodi a pagare una salatissima bolletta della luce perché crea effettivamente uno spreco da questo punto di vista ma creino quella come posso definirla quella differenza e quella difficoltà nel riuscire a constatare se effettivamente l'inquinamento può aumentare o meno a causa del loro operato ripeto non è nelle mie competenze scientifiche ma credo che qui nessuno abbia una competenza tale da poter un minimo credo che sia molto peggio l'inquinamento delle auto ecco credo che questa mozione avrebbe avuto molto più senso se magari ci fosse stato all'interno anche una richiesta non soltanto visto che viene diretta poi a organi regionali e nazionali non soltanto sul diciamo sul sanzionare i negozi che utilizzano queste lame di calore o lame di freddo ma sull'incentivare le fonti di energia alternativa questo sarebbe stato assolutamente condivisibile io credo che si stia parlando oggi di negozi che hanno questa pratica ma che abbiamo riconosciuto tutti sono limitatissimi come numero forse li contiamo neanche sulle dita di una mano l'emissione di CO2 è invece sotto gli occhi di tutti e come ha riconosciuto anche il collega Maju nell'esposizione della mozione derivante soprattutto dall'inquinamento delle auto ricordo che proposta di questa amministrazione è quella di costruire un nuovo plesso scolastico proprio sulla via più trafficata di Bra e a giudizio della minoranza di tutta la minoranza aumentando esponenzialmente proprio il traffico veicolare e quindi anche l'inquinamento quindi credo che non essendo noi così come dire ferrati sull'argomento ed essendoci comunque così tanta differenza di posizioni fra chi oggi in maniera da una parte un po' catastrofista dicendo che se non si cambia entro il 2030 la terra è destinata a morire e dall'altra parte in maniera totalmente negazionista quindi a volte negando addirittura il fenomeno si dovrebbe cercare una posizione una posizione intermedia dicendo che sì il clima sta cambiando sì è una cosa che è sotto gli occhi di tutti ma che potrebbe avere conseguenze del tutto naturali cioè è la terra stessa che cambia senza l'intervento dell'uomo poi ripeto sono congetture mie pensieri miei dettati da quanto si legge cercando di capire il più possibile attingendo da varie fonti quindi ecco credo che questa mozione avrebbe avuto davvero un valore diverso se al proprio interno invece di richiedere appunto solamente il diciamo il la sanzione per il negozio che applica che al proprio interno queste questo sistema di riscaldamento di raffreddamento di invitare invece la regione e il nostro paese quindi il governo nazionale a cercare di studiare fonti di energia alternativa come spesso lo vediamo tutti i giorni accade nei paesi per esempio del nord Europa sono molto più avanzati di noi da questo punto di vista ritengo che non ci siano per quanto almeno mi riguarda oggi le condizioni per poter votare favorevolmente questa questa mozione mancando proprio di quella parte che secondo me invece dovrebbe essere il fulcro di una visione da qui a 50 anni 100 anni che possa si disincentivare tanto per fare un esempio l'utilizzo dell'auto incentivando invece non soltanto le fonti di energia alternative ma anche soprattutto il l'utilizzo di auto elettriche o comunque ibride che possano inquinare meno le nostre città possano essere meno dirompenti dal punto di vista anche della salute grazie grazie lei ha citato Annibale non a caso no una battuta idiota Annibale si chiamava barca non si chiamava automobile insomma poi ha usato gli elefanti energia animale bene si era prenotata la consigliere Milazzo prego chiedo scusa anch'io penso che comunque informarsi nel nostro piccolo è vero che possiamo essere condizionati da ciò che leggiamo ma sta a noi comunque scegliere poi ciò che effettivamente ci sembra più più giusto però abbiamo il dovere più corretto dal punto di vista scientifico perlomeno avevo letto delle posizioni anch'io del premio Rubia delle sue posizioni dove lui non diceva che non si sarebbe giunti appunto a un cambiamento climatico dove comunque l'uomo avrebbe perso questo cambiamento ma che occupavano che occorrevano comunque moltissimi anni io penso che anziché giungere al termine di questo percorso si possa tentare di fare qualcosa prima perché comunque come ho anche ribadito le sfaccettature di questo grave problema quando ho fatto riferimento all'azione anche di questa amministrazione in questi anni sono numerose questo è solo un aspetto cioè non è che con questa mozione si chiude il tutto il clima comunque è ciò che fa variare di più le nostre condizioni ambientali e le condizioni comunque di salute personale cioè l'indagine epidemiologica sul fatto che vi sono 90.000 morti condivido 90.000 morti prematura ogni anno condivido il fatto che non siano dovute alle lame che sono nei negozi milanesi dove comunque sono molto di più rispetto a quelli del nostro ma sono all'emissione di CO2 quindi all'utilizzo improprio che si fa che si fanno dei sistemi anche di riscaldamento e quindi anche di raffreddamento con l'anno 2 per cui io penso che anche queste piccole ribadisco queste piccole gocce possono dare un segnale tant'è che io ho proposto delle modifiche alla mozione del consigliere del nostro collega che non avessero come punto dopo i tre mesi di penalizzare o di disincentivare con delle multe perché giustamente le multinazionali se le pagano così come non sono incentivate al consumo di energia elettrica alcuni perché tanto hanno lo stipendo che gli può permettere di pagare determinate bollette ma questo non significa comunque che noi non dobbiamo sensibilizzare le persone a fare un determinato percorso per cui si dovrà aggiungere poi ad eventuali sanzioni solo dopo un percorso che il tavolo di lavoro farà può anche darsi che non giungano a questo non sappiamo però li vieto di tenere le porte aperte a questo penso che dopo un lungo percorso lungo ma relativo ecco possa più che lungo direi appropriato percorso possa comunque giungere a questo mentre colgo favorevolmente quanto il consigliere Tripodi ha aggiunto è vero noi siamo una goccia probabilmente possiamo agire nel nostro piccolo ambiente ma non è detto hanno molto una presa di posizione a livello regionale o nazionale sicuramente lascerebbe un'impronta maggiore anche su chi si appresta a voler modificare certe sue abitudini di vita per cui penso che si possa aggiungere sempre che il consigliere Amagiù lo accetti una ancora un punto in cui chiediamo all'amministrazione comunale anzi alla Giunta di inviare questa mozione al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio dei Ministri affinché sensibilizzi su questi temi e assuma ogni iniziativa utile a livello nazionale di correzione di questo sistema o di incentivazione possiamo aggiungere di incentivazione cioè ciò che lega alla Giunta potremmo comunque ribaltarlo poi anche sulla Regione e a livello nazionale sul Consiglio dei Ministri perché effettivamente è una riflessione appropriata a cui lo ringrazio perché a cui non avevo pensato pensavo di risolvere che se tutto si potesse essere risolto nel nostro piccolo ambito grazie grazie quindi se posso puoi avere il testo grazie consigliere Somaglia prego grazie presidente allora io non mi addentro in in disquisizioni scientifiche l'hanno già fatto l'ha fatto molto bene il consigliere Marengo che è sempre attento e preparato sia in questi ambiti che in altri vorrei però fare alcune considerazioni che più di carattere locale e generale allora intanto diciamo stiamo dibattendo di una mozione che cui oggetto sono penso tre o quattro esercizi commerciali cittadini è vero che con la politica dei piccoli passi si ottengono sempre grandi risultati però secondo me non è con questo tipo di politica dei piccoli passi ma è su una politica di strategia di cosa si vuole fare del centro cittadino qual è una politica ambientale seria e non è con una mozione che tra l'altro chiede che venga entro tre mesi dalla data è messa un'ordinanza che vada ad incidere su questa problematica allora siamo ad un mese dalla chiusura della vita amministrativa e ritengo che andare a impegnare la futura amministrazione che chissà quale idea metterà in campo per la soluzione di alcuni problemi lo vedremo nelle prossime settimane con i vari incontri con la presentazione dei vari candidati delle varie liste delle varie idee dei vari programmi quindi sembra un po' eccessivo oggi andare a prendere un impegno di questo tipo tra l'altro qualche giorno fa è stato presentato un progetto di collaborazione tra l'ASCOM il comune di Bra e la cassa di risparmio di Bra denominato Willow Shopping sotto casa che secondo me oltre a penso a proporre delle iniziative proponga anche dei momenti di studio su quello che può essere la programmazione futura è un progetto di rilancio e secondo me di rilancio soprattutto il commercio braidese ne ha bisogno basta parlare con i nostri concittadini che svolgono quel tipo di attività e voi per un periodo storico estremamente difficile vuoi anche per qualche scelta fatta dall'amministrazione in questi anni il commercio braidese non solo langue ma ahimè in alcune situazioni muore anche abbiamo appurato che si tratta di una strategia di marketing giusta sbagliata che sia alcune di queste attività lo fanno in questa maniera e ripeto mi pare che gli esercizi commerciali che adottano questa strategia non siano più di tre o quattro forse qualcuno di grandi gruppi internazionali di franchising qualcuno di commercio locale si tratta quindi difficilmente posso essere d'accordo sull'approvare un testo di questo tipo non tanto per il fatto di occuparci di un problema veramente annoso poi la si può pensare in una maniera la si può pensare a un'altra si può dare ragione a una parte di scienziati si può dare ragione da un'altra parte che la pensano in maniera diversa qui si tratta di un problema che ha termini veramente molto contenuti ma che soprattutto a mio avviso non può impegnare in questa maniera un'amministrazione che volge verso la fine della propria consigliatura della propria amministrazione scusate ma soprattutto deve essere un problema a mio avviso trattato in un progetto di più ampio respiro che veramente oltre ad occuparsi dei problemi ambientali e ce ne sarebbe ahimè bisogno deve occuparsi della situazione di crisi importante del commercio braidese grazie consigliere Somalia provvisoriamente questo banco serve anche al consigliere Milazzo per prendere nota ma vi vedo lo stesso quindi se ci sono delle mani alzate se ci sono delle mani alzate le vedo consigliere Tripodi prego mi scusi presidente se intervengo nuovamente ma prima di leggere il testo integrale anche con le modifiche ma visto che ci siamo magari trovare una una quadra nel senso che prevedere come ho già affermato prima delle sanzioni per quanto riguarda limitate a quelle che sono il nostro ambito comunale veramente mi sembra proprio solo una goccia nell'oceano la cosa essenziale nella stessa veramente nello stesso spirito con la quale facciamo comunque andiamo a votare questa tipologia di mozioni è quello di chiedere una normativa che sia a livello sanzionatorio di livello regionale o comunque anche statale quindi io noi chiediamo che il secondo punto dell'impegna nel testo del consigliere ab venga cancellato e ci sia un'altra parte dove venga inoltre si impegna alla giunta e il consiglio comunale impegna la giunta a chiedere alla regione e allo stato una normativa che possa prevedere anche profili sanzionatori questo fermo restando la parte della consigliera Milazzo dove indicava l'essenziale ruolo dell'associazione di categoria del nostro territorio con la quale aprire un confronto credo che questo sì sarebbe un bel messaggio quindi con delle modifiche di questo di questo senso in questo senso potremmo anche votarla grazie al consigliere Tripodi bene nel frattempo è arrivato l'emendamento proposto dal consigliere Milazzo ha chiesto la parola a consigliere Maggiù prego grazie presidente credo che dare spazio ai negazionisti del cambiamento climatico sia equiparabile a dare lo stesso spazio a chi dice che la terra è piatta ai terrapiattisti perché quasi la totale comunità scientifica riporta i dati del cambiamento climatico c'è un gruppo molto ristretto legato appunto al Global Warming Policy Foundation che è una fondazione fondata da un ex ministro di Margaret Thatcher dietro il quale ci sono vari settori tra cui produttori di combustibili e non a caso sia stato proprio Trump dopo che gli Stati Uniti si siano impegnati verso una politica del COP21 ad affrontare questo planetario problema sia stato lui a fare un'altra marcia indietro gli Stati Uniti sono emettono per il 27% a livello globale delle emissioni di CO2 pensate la Cina 11% l'intera Unione Europea il 25% è chiaro che c'è un interesse a negare è chiaro che c'è un interesse a continuare a investire nei combustibili però arrivare a negare o meglio a dare spazio ai negazionisti a danno di questo panel delle Nazioni Unite c'è un panel che si chiama International Panel for Climate Change dove ci sono i maggiori scienziati di quasi tutti i paesi dove ci sono 3.000 scienziati sono usciti con questo risultato il cambiamento climatico è una cosa naturale che è sempre avvenuta ma il problema è l'accelerazione con cui si è in atto oggi loro ci dicono che ogni mille anni c'era questo cambiamento di un grado aumentava il riscaldamento di un grado ma il problema è che dall'industrializzazione ad oggi c'è stato l'aumento di quel grado mezzo grado solo negli ultimi 30 anni ed è questo molto legato anche alla mozione che ho presentato all'epoca sui rifugiati climatici perché è una cosa che si fa sempre più sentire è una cosa viva viva e molto pericolosa e sta avendo danni su varie aree del pianeta io credo che penso che quando la patata insomma si fa bollente si tende sempre a scaricarla nel senso che io non vedo nessuna ragione per cui si debba passare la palla alla regione piuttosto che allo Stato quando questo in parte è competenza nostra a me non importa cosa farebbe la regione nel senso che se è una competenza mia oggi perché non posso farla soprattutto il discorso iniziale nel caso degli imprenditori venissero oggi a investire a Bra nel nostro centro non potrebbero perché abbiamo una norma simile e se la applica la regione cosa vuol dire non è lo stesso discorso ma soprattutto se arrivasse adesso delle aziende e volessero investire in piastrelle con dieci negozi in via Vittorio riapririamo la strada per loro io penso di no penso che si debbano adattare a una visione di città a una visione di ambiente che va in questa direzione l'imprenditore quello bravo riesce ad andare avanti innovando chi non è incapace di innovare non va da nessuna parte e i paesi che non stanno innovando in energie rinnovabili saranno i paesi che prenderanno insomma la batosta dal punto di vista economico a un futuro altri paesi stanno svegliando perché il futuro va in quella direzione non è che possiamo chiudere l'occhio e aspettare insomma di essere sempre superati gli altri io penso che nonostante sia un piccolo gesto per piccoli locali sia un importantissimo segnale perché al primo posto c'è la salute dei cittadini c'è la coerenza politica perché io non posso dire quando arrivo in casa chiudiamo le finestre piuttosto che abbassare il termosifone e poi sto zitto quando vedo i locali aperti perché devono vendere io non l'accetto ma proprio personalmente non l'accetto e questo non è neanche una mozione di un partito politico piuttosto che una visione no è stata approvata dalla Lega dal centro-destra in tantissime città in giro per l'Italia ma la cosa interessante perché io ho inserito questo secondo punto primo punto ho messo che va fatto un percorso di sensibilizzazione perché è importantissimo e fondamentale il secondo punto è quello verso la sanzione perché quando vedo ho letto gli articoli le interviste dei vari sindaci fra cui quello di Novara quello di Verona che la prima mozione che ha presentato era senza sanzione ma non è mai stato ascoltato dopodiché ha dato un ultimatum dal dicembre 2018 c'è la sanzione per i negozi che tengono aperti gli hanno 50 negozi assolutamente sono molto numerosi però sul fatto che ci sia una sanzione c'è almeno una chiarezza fino all'inizio che si può arrivare a questa condizione perché se io faccio la sensibilizzazione non è detto che sono libri di non ascoltarla per cui io immagino naturalmente accetto tutte le modifiche ma che nella prospettiva ci sia una sanzione penso che sia fondamentale proprio per mantenere in piedi il percorso perché tanto vale basta presentare mi illumino di meno anche a loro ed è fatta perché le campagne di sensibilizzazione in città ci sono già ma non ci sono sistemi che possano insomma sanzionare chi non li rispetti grazie al consigliere Maju consigliere Tripodi già il suo terzo intervento questo ok no era semplicemente perché ha fatto il consigliere Maju ha fatto esplicito proprio riferimento a quello che in maniera così il più concreto possibile ho cercato di far di far comprendere io sono dell'idea che prevedere in una mozione già tra virgolette ipotesi di sanzioni per come la intende Maju cioè Abde non cominciamo con la campagna di sensibilizzazione incominciamo a fare un discorso premiante per quello che può essere considerato la reputazione di un di un di un negozio di un bar di qualsiasi cosa nel momento in cui allora questa cosa non funzionasse allora poi lì andiamo a prendere delle delle scelte diverse ma lanciamolo il messaggio non pensiamo sempre che qualunque sia il soggetto interessato se non mettiamo la sanzione non si non abbia un comportamento adeguato io credo che cercando di dare il buon esempio si possa arrivare ugualmente all'obiettivo che vuole il consigliere Maggiù ma è lo stesso obiettivo che vogliamo noi però questa convinzione di ogni volta cercare di sanzionare poi persone che comunque alla fine lavorano lavorano e magari se sono premiate e da quel punto di vista lì si ritrovano un'etichetta con scritto questo locale mantiene e attua un comportamento che va bene per l'ambiente e forse l'unico locale che non avrà quella quell'etichetta quella quella targa fuori magari ci farà un pensiero questo facciamo così è meglio parliamo di cose concrete non serve sempre solo esclusivamente mandare messaggi di politica qua facciamo amministrazione guardiamo semplicemente quello che serve in maniera veramente concreta la nostra città secondo noi questo sarebbe un modo un po' diverso ma di arrivare allo stesso obiettivo se poi vediamo che ad un certo punto perché consigliere Ab lui è sempre molto in bicicletta io sono a piedi spesso volentieri tutti i consiglieri qua girano per la nostra città a far comprare e quant'altro vediamo che una cosa non funziona allora lì sì ci metteremo ad un tavolo e vedremo che cosa fare però partiamo da quello non pensiamo ogni volta visto e considerato che l'obiettivo è ottimo cerchiamo una volta di considerare coloro i quali lavorano e coloro i quali fanno parte di un settore anche abbastanza in crisi di non dover sempre muoversi con la paura di essere sanzionati spieghiamo che è la cosa giusta e secondo me una targhetta è l'unico locale senza essere targato diciamo come locale vicino all'ambiente magari chi andrà a comprare e magari si farà delle domande questo è il nostro atteggiamento e spero che in questa mozione venga fuori questo pensiero questo modo modus operandi grazie 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 consigliere Milazzo terza volta anche per lei poi non potrà più intervenire prego solo per un chiarimento io penso che comunque di questa è il tavolo di lavoro che giungerà poi eventualmente alle sanzioni infatti io nella proposta nella modifica avevo scritto questo non è l'amministrazione che pone delle sanzioni il tavolo di lavoro dove sono i rappresentanti di categoria questo solo per chiarire e l'altro punto che vorrei chiarire è questo il piccolo commercio che sta tanto cuore a noi braidesi penso che ne trarà vantaggio di questo perché tanto le grandi catene è vero che danno noi ne abbiamo uno due qui in città se ho notato bene quest'inverno nella zona pedonale però penso che questi le grandi catene non fanno parte del piccolo commercio e quindi noi se vogliamo anche aiutare il piccolo commercio a sopravvivere dobbiamo rendere attraenti loro e saranno attraenti proprio vero con questo bollino significativo ma l'essere alternativi e porsi questo problema non significherà solo non avere le lame probabilmente sarà anche quello di dotarsi non so di energia alternativa di non usare solo la corrente elettrica per determinati ma avranno magari anche dei sistemi pannelli solari fotovoltaici non lo so comunque questi sono i numerosi aspetti e noi non possiamo affrontare tutto in questo diciamo nel consenso di questa mozione in questa mozione si parla semplicemente dello spreco energetico e dei danni derivati nel loro piccolo comunque contribuiscono dell'utilizzo di certi sistemi tutto lì quando sarà letta la mozione modificata ovviamente potrò fare se devo farlo lo faccio anche adesso di tirazione di voto a favore con le modifiche che personalmente ho apportato grazie consigliere maggiù terza volta anche per lei a facoltà io adesso io stavo per leggere il testo elementamento no ma basta il terzo va bene non faccio nomi perché non vorrei che qualcuno si alzi dicendo che per sono state chiamate in causa ma caro Davide Tripodi io tutti i giorni faccio politica e non faccio amministrazione raccolgo le sigarette da per terra una latte da per terra per me è un atto politico perché già quello è un segnale di politica molto importante qui abbiamo una diversa concezione di fare politica e allora eh no le porto poi davanti al tuo bar allora se la mia interpretazione funziona la direzione è quella di fare una campagna di sensibilizzazione con l'accordo con le associazioni di categoria per aumentare la consapevolezza e avviare un percorso che porti entro i tre mesi eccetera eccetera questo non è possibile perché non c'è il tempo materiale non si può prendere un impegno potrei anche togliere la parte in cui si parla di multe lasciando però la parte in cui si dice che impongano di mantenere chiuse tutte le porte dei locali verso l'esterno un percorso che porti a imporre la chiusura dei locali oppure il divieto di tenere le porte aperte e togliere esplicitamente insomma l'utilizzo della parola multa o di sanzioni per me questo è grazie ah tutto scuso no no niente per me è questo l'obiettivo era questo grazie allora adesso io leggo l'emendamento tenendo conto che la premessa iniziale rimane uguale considerata rimangono uguali all'ultimo punto dove c'è l'impegno la maggioranza mi ha consegnato questo testo allora io lo leggo e poi dopo faccio un intervento a nome della maggioranza ma adesso lo leggo come Presidente del Consiglio Comunale il Consiglio Comunale di Ibra impegna la Giunta a avviare una campagna di sensibilizzazione in accordo con le associazioni di categorie della città al fine di aumentare la consapevolezza sui comportamenti da adottare per contenere i consumi energetici prodotti dagli impianti termici di riscaldamento e raffreddamento importanti fonte emissiva di anidride carbonica e biossido di azoto due ad avviare un percorso attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro con le associazioni di categorie della città per individuare iniziative e buone pratiche sul tema cambiamenti climatici che portino a provvedimenti di divieto di tenere aperte le porte nei negozi e sistemi premianti per le attività della città tre ad inviare questa mozione al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio dei Ministri affinché sensibilizzino su questi temi ed assumano ogni iniziativa utile a livello nazionale di correzione del sistema questo è l'emendamento proposto dalla maggioranza rispetto al chiarazione a favore della maggioranza e ritengo che questi emendamenti siano il frutto di un elaborato che tenga conto di tutti i suggerimenti che in questa discussione sono stati portati da più parti da più consiglieri che hanno parlato finora grazie il consigliere Marengo prego grazie Presidente solo per chiedere le persone di precisioni io non ho mai detto se non esiste a me ma che c'è io non ho la c'è 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 non si spegne nemmeno più la c'è stiamo parlando in 5 lascio la parola da stupendo dovrebbe c'è perfetto no volevo sgomberare il campo da alcune credo incomprensioni che ho sentito prima da chi mi ha preceduto come dicevo io non ho mai negato un cambiamento climatico e ho detto chiaramente che tra le due posizioni cioè tra chi oggi ha una posizione tra virgolette catastrofista e chi ha una posizione tra virgolette negazionista esiste sempre un optimum che sta in medio e cioè esiste una consapevolezza del problema ma non esiste una totalità di valutazioni che spingono a considerare il cambiamento climatico come solo ed esclusivamente attribuibile all'uomo questo per fugare ogni dubbio sul fatto che si possa come dire in qualche modo pensare che il mio intervento non fosse indirizzato in questa direzione il senso del mio intervento precedente era però quando parlavo delle fonti di energia alternativa proprio indirizzato ad un'idea di futuro che preveda questo sistema e che elimini progressivamente tutte le fonti di inquinamento là dove sia possibile ovviamente nessuno si nasconde dietro un dito nessuno pensa che esistano e da una parte e dall'altra lobby che stanno spingendo per prendere una posizione piuttosto che un'altra ci mancherebbe altro il pensiero che sta alla base del ragionamento precedente mio è che una mozione in questo senso dettata solo ed esclusivamente nei confronti di quei pochissimi negozi che avrà utilizzano quel sistema è secondo me non sufficiente a garantire quello che è un pensiero il pensiero portante a quello che io immagino fosse l'idea della mozione credo che se invece di parlare di questo sistema che è sicuramente poi ho premesso subito prima di iniziare il mio intervento che non ho le competenze scientifiche ma credo che in questa sala ripeto nessuno abbia competenze scientifiche tali da poter affermare che questo sistema sia l'unico inquinante o meglio uno dei più inquinanti se avessimo tutti i negozi che applicano questo sistema potrei anche essere d'accordo io credo che invece avremmo dovuto spingere si sarebbe dovuto spingere in questa mozione a puntare più su energie alternative e magari all'utilizzo di auto elettriche o di auto ibride quelle sì inquinanti non quelle ibride elettriche ma le auto a benzina e a diesel ovviamente altrimenti mi sembra non so quella persona che pulisce casa e toglie un granello di polvere dal tavolo e non si rende conto che ci sono i piatti da lavare dalla sera prima avendo avuto magari 40 ospiti a cena ecco ci si focalizza su una tematica che è sicuramente importante poi ripeto nessuno di noi ha le competenze scientifiche per poter dire se questa cosa sia vera o meno ci affidiamo a tutti e quello che troviamo su internet poi ognuno si fa un'opinione stante queste considerazioni io credo che a oggi il mio voto non potrà essere favorevole così per le stesse ragioni non sarà negativo e quindi non avendo una competenza specifica tale e ritenendo che solo come è stata strutturata sia la mozione sia l'emendamento non siano da me votabili e quindi mi asterrò grazie grazie al consigliere Marenga ha fatto anche la dichiarazione di voto perfetto la maggioranza si è espressa se più nessuno il consigliere Tripodi lei ha già parlato tre volte vabbè può parlare il consigliere Panera almeno per dichiarazione di voto se è in difformità dalla sua però la sua lei non l'ha fatta quindi può fare al consigliere Panera perfetto consigliere Somaglia prego è verissimo viste le considerazioni che ho posto precedentemente il nostro gruppo si asterrà grazie allora viste le considerazioni precedentemente esposte il nostro gruppo si asterrà grazie allora se non ci sono più richieste metto i voti prima l'emendamento oppure la mozione emendata consigliere Panero prego grazie presidente visto che il mio capogruppo non può parlare mi confonto la giacca parlo io allora visto che gli indirizzi e le indicazioni di questa mozione sono state più volte ripetute anche dal consigliere Tripodi sono da noi condivisi è stata anche condivisa la nostra idea di eliminare dal contenuto le sanzioni quindi non sanzioni ma sì sistemi preliminari premianti siamo d'accordo sull'apertura del tavolo di confronto e l'invio alla regione e allo Stato per ulteriori regolamentazioni quindi diciamo che il contenuto è condiviso dal nostro gruppo è condiviso anche il fatto che non si parla di sanzioni perché ormai c'è una sanzione per qualsiasi cosa e pensiamo che non sia in modo giusto almeno in maniera preliminare esprimo il voto favorevole mio e del nostro gruppo a questa mozione grazie grazie consigliere panero chiedo solo più al consigliere ma giù se possiamo mettere direttamente in votazione il testo così come è stato emendato o se mantiene la sua mozione originaria e votiamo l'emendamento quindi votiamo già tutto insieme così come modificato perfetto molto bene allora è il caso che lo relegga va bene così va bene così molto bene allora sulla base dell'emendamento letto prima da me la mozione quindi va in votazione così come è stata modificata dall'emendamento presentato della maggioranza bene possiamo votare siamo in 16 chi manca ancora eh no c'è scritto devono votare uno e lo so ho capito però non dovrebbe comparire comunque fa lo stesso ma le altre volte non c'era questo conteggio qua comunque va beh allora tanto siamo in 16 quindi siamo presenti in 16 votiamo in 16 si si può andare avanti no si va bene andiamo in votazione perfetto va bene votazione chiusa la mozione approvata con 13 voti favorevoli e 3 astenuti grazie passiamo avanti siamo al punto 5 approvazione verbali della seduta precedente dal numero 76 al numero 93 alla seduta del 20 dicembre del 18 è collegato con la stampante parla la stampante non parlo io in tempo reale 3d 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 e 4 notti andiamo avanti segnaliamo la presenza se arriva la mano arriva la mano è uscito nessuno si consigliere Tripodi è uscito 15 va bene possiamo votare votazione chiusa approvato in unanimità grazie passiamo al punto 6 il punto 6 è il piano urbano della mobilità sostenibile linee guida europee linee guida è il TIS approvate dalla comunità europea nel 2014 e nazionali decreto ministero infrastrutture e trasporti del 4 agosto 2017 approvazione del documento direttore obiettivi e linee di indirizzo illustra il vice sindaco Borrelli si buonasera a tutti intervengo anche a nome dell'assessore Cravero che in questi anni ha lavorato insieme a me rispetto al tema della mobilità sostenibile poi magari nel corso della discussione interverremo anche per altre considerazioni durante questo mandato l'amministrazione ha dato vita ad un percorso per la promozione della mobilità sostenibile partendo alla creazione di una delega specifica e di questo ringrazio il sindaco che ha lavorato sul tema a tutto tondo mettendo in capo iniziative concrete volte a rendere più ecosostenibile la mobilità sul territorio comunale con la sensibilizzazione del coinvolgimento della cittadinanza fin dalla fine del 2015 l'amministrazione ha attivato l'iter delle attività propedeutiche a dotarsi di un piano urbano della mobilità sostenibile il cui macro obiettivo è quello di orientare e gestire il sistema della mobilità urbana con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo dieci anni si precisa che il decreto del MIT del 4 agosto 2017 individua linee guida e gli adempimenti in materia di piani urbani di mobilità sostenibile solo per i comuni superiori ai 100.000 abitanti nel caso di VRA quindi l'adozione del PUMS non è frutto di un obbligo legislativo bensì di una precisa volontà politica rivolta al costante miglioramento dell'accessibilità al territorio della qualità della vita e dell'ambiente urbano il piano urbano della mobilità sostenibile è un piano strategico che nasce quindi per soddisfare i più svariati bisogni legati alla mobilità al fine di migliorare la qualità della vita del medio-lungo termine il PUMS prevede un'analisi estesa a tutte le forme di trasporto pubbliche e private passeggeri e merci motorizzate e non motorizzate di circolazione e sosta e promuove nuovi modelli per un importante cambiamento dei comportamenti e delle abitudini sul tema della mobilità cittadina il piano si rivolge a tutti i cittadini alle aziende agli enti e alle associazioni di categoria e pone al centro le persone e la soddisfazione delle esigenze di mobilità seguendo un approccio trasparente partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini e di altri portatori di interesse fin dall'inizio del suo processo di definizione rendendo quindi i cittadini e il territorio i protagonisti principali del cambiamento gli elementi che hanno caratterizzato fin da subito tutte le attività prodromiche all'elaborazione del piano urbano della mobilità sostenibile per la città di Bra hanno quindi fatto riferimento a questo tipo di approccio avviando nel 2017 un percorso articolato che ha visto il coinvolgimento attivo dei cittadini braidesi dei soggetti portatori di interesse e dei giovani delle scuole in diverse iniziative percorsi educativi dibattiti e progetti legati alla viabilità al traffico alla mobilità e al trasporto urbano in collaborazione con la cooperativa Erika è stata attuata una campagna di sensibilizzazione dal titolo cambia marcia usa la testa accompagnata da un percorso di educazione ambientale nelle scuole braidesi e affiancata dal lavoro del consiglio comunale dei ragazzi che ha approfondito vari temi legati alla mobilità sostenibile oltre 500 bambini coinvolti e circa 130 docenti con corsi di formazione dedicati ringrazio per questo lavoro anche il consigliere Nino Cornalia che ha seguito il consiglio comunale dei ragazzi in questi anni inoltre con la due giorni a cielo aperto per le vie della città che ha visto la partecipazione attiva dei portatori di interesse locali nella stesura del manifesto della mobilità sostenibile corredato dagli incontri e dibattiti sul tema nonché da alcune anticipazioni relative al piano urbano della mobilità sostenibile nel corso di tutte queste iniziative più di 3.000 persone hanno rilasciato la loro opinione sul tema a mezzo di sondaggi e questionari questi contributi opportunamente messi in sintesi inseriti in un quadro più ampio sono diventati parte integrante del documento direttorio del piano urbano della mobilità sostenibile oggetto della presente delibera a questo si aggiunge un impegno concreto dell'amministrazione per promuovere la sostenibilità del settore della mobilità in termini economici ed ambientali con un lavoro con l'agenzia della mobilità piemontese finalizzato al potenziamento all'adeguamento del servizio del TPL e qui ringrazio il consigliere Ferrero per il grande lavoro fatto sul tema del trasporto pubblico locale che proprio in questi giorni prenderà il via con la riqualificazione di porzioni di aree urbane centrali e centri commerciali naturali con l'attuazione di limitazioni al traffico motorizzato ed incentivi per l'utilizzo di auto ibride con la protezione e la messa in sicurezza di percorsi pedonali la volontà di estensione della rete di piste ciclabili e la risoluzione di alcune criticità puntuali sulla circolazione viabilistica e della sosta dal punto di vista procedurale il percorso di realizzazione definitiva del PUMS affidato alla società Mobiliter si articola in tre fasi una prima fase a livello conoscitivo iniziata nel 2016 può dirsi ora conclusa tale fase ha ricostruito lo scenario attuale di BRA grazie ad interviste studi del traffico e del percorso partecipativo di cui si è accennato una seconda fase prevede la stesura di una proposta di piano individuando le azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi facendo una valutazione tecnica economica ambientale dei vari scenari i documenti prodotti alla fine della seconda fase dovranno essere oggetti di presentazione alla cittadinanza dotati in consiglio comunale pubblicati e soggetti osservazioni la terza fase prevede le contradduzioni delle osservazioni raccolte e la redazione della versione definitiva dei documenti del PUMS con adozione in consiglio comunale la redazione del documento direttorio contiene gli obiettivi e le linee di indirizzo del PUMS e si colloca all'interno della seconda fase prima di passare la parola al dottor D'Alessandro che ringrazio per la grande pazienza che ha avuto in questi anni rispetto ad alcune questioni che gli venivano sottoposte la società che è il responsabile della società mobilità rincaricata della redazione del PUMS perché possa meglio entrare nel dettaglio solo un'accenna a quelli che sono gli obiettivi e le conseguenti linee di indirizzo emersi dai percorsi effettuato fino ad oggi gli obiettivi sono soddisfare le esigenze in mobilità di tutti gli utenti cittadini garantendo una migliore accessibilità alle destinazioni e ai punti strategici della città garantire sicurezza salute accessibilità e informazione per tutti aumentare l'efficienza del trasporto di persone e merci ottimizzarne i costi e ridurre l'impatto ambientale ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico le emissioni di inquinanti nell'aria e di consumi energetici in condivisione con la finalità del PAES piano dell'energia sostenibile migliorare il paesaggio urbano dell'attrattività e dell'economia del territorio a beneficio di tutti per raggiungere questi obiettivi sopra declinati sono individuate le seguenti linee di indirizzo istituzione della segreteria tecnica del PUMS processo di comunicazione e partecipazione dei cittadini alle scelte della mobilità urbana riqualificazione ambientale dell'area urbana centrale e delle zone residenziali potenziamento del servizio di trasporto pubblico estensione della rete delle piste ciclabili miglioramento della circolazione sosta riduzione dei consumi energetici delle emissioni inquinanti al di là di tutto questo lavoro che è stato fatto e qui riprendo anche un po' quello che abbiamo detto in occasione della mozione precedente credo che un'amministrazione debba mettere i propri concittadini nelle condizioni di conoscere tutti quelli che sono i provvedimenti che possono in qualche modo migliorare la vita della cittadinanza però si passa anche attraverso un cambio culturale quindi ci aspettiamo grazie al coinvolgimento di tutti i nostri concittadini che queste indicazioni questi obiettivi queste linee guida possono essere in qualche modo considerate come elemento fondamentale per migliorare la situazione nella nostra città lascerei la parola al dottor all'ingegnere D'Alessandro e poi l'assessore Cravero di nuovo al sottoscritto per intervenire in base alla discussione grazie grazie all'assessore Borrelli prego l'ingegnere Michele D'Alessandro stavolta almeno il componente della commissione congiunta ambiente lavori pubblici lo vedono di persona non solo via Skype ma garantiamo che era lui il collegamento prego ingegnere intanto buonasera a tutti sono Michele D'Alessandro sono titolare della società di ingegneria Mobiliter che ha avuto l'onore di occuparsi della stesura di questo documento noi tanti anni che siamo nel settore c'è proprio una scuola che è al Politecnico di Milano ma anche in altre città si dedica proprio una disciplina allo studio del traffico siamo ingegneri trasportisti però la materia è vastissima devo dire adesso scorriamo come si arriva al PUMS perché il PUMS sta appunto per il piano urbano della mobilità sostenibile allora uno dice ma tutto quello che è stato fatto prima tutti gli studi della mobilità dei trasporti non erano sostenibili viene questa domanda in realtà già dal piano urbano del traffico che tra un po' farà l'obbligo è stato istituito col codice della strada nel 92 tra un po' farà anche 30 anni gli elementi peculiari della sostenibilità e parlo delle ricadute sull'ambiente prodotte dagli spostamenti con le auto o con altri mezzi erano già all'attenzione infatti nel piano urbano del traffico tra gli elementi importanti ci sono gli stessi che ritroviamo poi nel documento che è venuto fuori dopo con la normativa del 2000 che è il piano urbano del traffico non c'era ancora la parola l'aggettivo sostenibile allora c'è un grosso cambiamento in questi anni il PUT era nato giusto per le esigenze momentane doveva affrontare le situazioni puntuali delle città quindi problemi di circolazione il traffico i pedoni era rivolto a sistemare le intersezioni i semafori si vedeva che però era molto ridotto e limitato si era capito che forse occorreva qualche altro strumento qualche strumento che potesse anche prevedere degli interventi importanti perché fino a quel momento per poter realizzare una strada non ci voleva il piano urbano del traffico ma era il piano regolatore che si occupava con altre visioni nel 2000 invece è stata appunto emanata la legge sui piani urbani della mobilità che hanno avuto un grosso obiettivo un grosso pregio cioè quello di coinvolgere direttamente anche gli organi statali nel sovvenzionare interventi infrastrutturali di un certo peso pensiamo alle metropolitane ad esempio e allora la visione si è allargata non più uno strumento che doveva gestire la circolazione per due anni l'obiettivo era un po' ambizioso ogni due anni rifare un piano urbano del traffico invece avevano già una visione più ampia e infatti era dedicato in realtà alle grosse aree urbane con un traguardo un orizzonte temporale dei dieci anni e con i PUMS le aree urbane hanno poi progettato e anche realizzato grossi interventi infrastrutturali soprattutto collegate con ambiti territoriali più ampi dei propri confini comunali è quello che si vuole fare quando si vuole intraprendere allora una strada verso la pianificazione urbana integrata come questa è successo qualcos'altro perché poi nel 2017 il PUMS diventa PUMS quindi il decreto del Ministero dei Trasporti recentissimo del 2017 introduce appunto la sostenibilità in realtà il PUMS dice qualcosa di più dice che le scelte sulla mobilità devono essere intraprese in modo integrato con l'assetto del territorio quindi si sposta molto l'attenzione sul territorio non solo sulla viabilità per intenderci quindi avere una visione di sistema tra le scelte urbanistiche e quelle infrastrutturali queste ultime articolate secondo un progetto affidato a reti di trasporto intermodali interconnesse con effetti positivi attesi nei confronti della componente ambientale più in generale della qualità della vita quindi si comincia a pensare alle persone è stato strutturato in modo che le amministrazioni che volessero adottarsi di questo strumento individuessero degli obiettivi e delle azioni per raggiungere in più la cosa importante è un'altra novità che fossero monitorate cioè la valenza ha dieci anni c'è un percorso almeno di dieci anni ma finito quello non è che abbiamo finito bisogna controllare quello che è stato fatto e quello che ancora c'è da fare però fino adesso non abbiamo parlato di sostenibilità in realtà la parola viene dalle linee guida che già il presidente del consiglio comunale ha accennato sono quelle della comunità europea ecco questo vedete il testo tradotto in italiano nella commissione europea introdotta quindi prima del 2017 nel 2013 queste linee guida e appunto ha introdotto una nuova dimensione di mobilità urbana affine di promuovere un approccio integrato che combini l'energia il cambiamento climatico e i trasporti con i PUMS quindi con i piani urbani della mobilità sostenibile quindi comincia la parola sostenibile ad essere evidenziata si mettono al centro delle scelte di mobilità la qualità della vita dei cittadini l'accessibilità alle funzioni urbane per questi PUMS sono promossi dalla commissione europea perché contribuiscono al raggiungimento dei obiettivi climatici energetici fissati dai leader dei paesi membri quindi due cose uno gli obiettivi climatici che già voi avete cominciato a discutere oggi in questa sede e poi soprattutto le persone infatti ho voluto sottolineare in alto perché c'è scritto pianificare per le persone quindi una cosa già un po' diversa da quello che siamo stati abituati a fare anche noi tecnici all'università però il concetto di sostenibilità in realtà viene da lontano io vi riporto soltanto alcune frasi giusto una suggestione il rapporto della commissione mondiale nel 1987 diceva che cos'era lo sviluppo sostenibile diceva che è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri è lì che nasce l'idea della sostenibilità pensare a quelli che vengono dopo nel campo dei trasporti ci invece dobbiamo fare riferimento al libro verde della commissione europea del 2007 dove dice che la sfida posta dello sviluppo sostenibile nelle zone urbane è immensa si tratta di conciliare da un lato lo sviluppo economico delle città e l'accessibilità del loro territorio e dall'altro la qualità della vita e la tutela ambientale questo è importante una città più accessibile migliora la qualità della vita per tutti quindi è vero magari avere una posizione critica contro le autovetture però ricordiamoci che fino adesso ci hanno portato dove volevamo ecco non dimentichiamoci questo aspetto poi se riusciamo a produrle anche con l'inquinano avremmo risolto anche una buona parte del problema al di là della battuta vediamo poi quali sono gli obiettivi e i linei di indirizzo che chi decide di intraprendere questa faticosa esperienza dei piani urbani della mobilità sostenibile incontra allora l'amministrazione comunale deve prefiggersi nel prossimo decennio di mettere sul campo della mobilità sostenibile una serie di attività dove al centro c'è la qualità della vita di tutti i cittadini e l'accessibilità alle funzioni urbane specifico l'accessibilità l'approccio deve essere integrato per quanto abbiamo visto e coordinato con le altre discipline che regolano la vita quotidiana delle persone e lo sviluppo appunto sostenibile del territorio quindi l'urbanistica l'ambiente l'energia la sicurezza i servizi sociali è per questo che bisogna fare tutte queste cose è imprescindibile non coinvolgere direttamente i cittadini e tutti i portatori di interesse di questi aspetti che abbiamo parlato e questo è la consapevolezza però che la pianificazione della mobilità urbana oltre ad essere complessa e articolata deve farsi carico di molte istanze spesso in conflitto tra di loro e in contesti non sempre favorevoli in termini di risorse economiche disponibili la sostenibilità tra l'altro deve essere anche nei riguardi dei costi e lo sappiamo benissimo quando soprattutto qui in Italia dobbiamo affrontare le grandi opere la mobilità naturalmente il PUNS gli obiettivi devono tenere con solidazione gli obiettivi climatici e energetici che abbiamo detto prima della commissione europea e tutto questo per il miglioramento della qualità ambientale che significa non dell'ambiente in generale ma dell'ambiente in cui viviamo cioè di noi stessi quindi quando poi parliamo anche della nostra povera terra in realtà dobbiamo pensare che siamo noi perché la notura di quello che facciamo noi se ne può fregare scusatemi il termine siamo poi noi che invece ci dobbiamo vivere e per cui la terra la natura siamo noi in questo senso allora in senso poi sintetico tutte queste cose che abbiamo detto che ho sintetizzato ma ci sono tanti argomenti da trattare in questa slide ci sono poi gli obiettivi dell'amministrazione comunale di Bra che in parte il consiglio e l'assessore ha già elencato nella delibera il PUNS per la città di Bra è inteso quindi come un progetto di sistema della mobilità finalizzato a soddisfare i bisogni di mobilità dei cittadini e questo in piena sicurezza assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico migliorare la qualità ambientale delle città dei cittadini e ridurre i consumi energetici questi sono obiettivi principali con delle azioni che vedono naturalmente aumentando i livelli di sicurezza del trasporto della circolazione stradale favorendo il trasporto pubblico e l'uso di sistemi più ecologici estendendo il più possibile la rete delle piste ciclabili e riducendo i fenomeni di congestione soprattutto nelle zone centrali appreggiate della città a favore della mobilità di pedoni ciclisti anche tramite scelte relative alla politica della sosta la sintesi è che in pratica l'amministrazione comunale intende perseguire con il Pums il miglioramento migliorare l'accessibilità al territorio e il livello della qualità della vita dei propri abitanti i propri cittadini naturalmente il tutto in coerenza con quanto suggerito dalle linee guide che abbiamo citato con l'approccio integrato delle altre discipline e soprattutto con il vigilamento diretto dei cittadini quindi questo in realtà è un documento di intenti un documento di obiettivi che come è stato detto prima non è da un punto di vista istituzionale obbligatorio per un comune che non ha non superi 100.000 abitanti ci sono altre obblighi come il piano del traffico per comuni che hanno 30.000 abitanti però avete visto prima che sono molto ridotti io a parte la pazienza come mi diceva l'assessore io invece ringrazio l'amministrazione e poi tutta la comunità in questo sforzo ma non soltanto perché non era obbligato a farlo ma soprattutto perché è devo dire insito nel proprio DNA perché Ebra è conosciuta per le eccellenze per la qualità anche alimentare però sappiamo che siamo quello che mangiamo e quindi la qualità è anche rivolta a tutti noi e per cui io sono posso dire ringrazio di questa opportunità per fare un lavoro abbiamo fatto anche un lavoro insieme un po' impegnativo ma molto soddisfacente ecco in teoria non è che finisce qua nel senso che queste sono parole in realtà l'amministrazione ha fatto anche delle cose cioè quindi dovremmo passare dalle parole un po' ai fatti in questa seconda parte invece della presentazione si parla della fase che si diceva prima di come attuare questi obiettivi quindi delle azioni da mettere in campo quella specie di pallini che si rincorrono è lo schema delle linee guida comunitarie ci sono tante fasi adesso lì magari non si vedono però che portano poi le cose che in sintesi adesso vi diciamo naturalmente bisogna prima di tutto focalizzare l'obiettivo che è poi quello che è il punto di partenza e là in alto c'è scritto punto di partenza migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini poi c'è tutta una fase che prevede di individuare quali sono gli attori e le risorse di mettere in campo per arrivare a questo obiettivo e da qui una serie di attività che hanno una forma circolare adesso vediamo perché che riguardano l'individuazione delle strategie quali sono poi i target gli obiettivi da raggiungere quali sono i progetti del piano come si attua finché si ritorna al punto di partenza ma non finisce lì perché la novità riguarda l'ultima fase che è il monitoraggio cioè dopo vedremo velocemente per ognuno degli obiettivi che sono stati individuati c'è un indicatore che va misurato e ogni dieci anni ma anche prima bisogna vedere a che punto siamo se va migliorato oppure se vanno riformulate altre azioni correttive per riottenere quell'obiettivo adesso magari tutte queste cose che abbiamo detto l'amministrazione di BRA le ha sintetizzato in queste otto azioni ecco le azioni di piano indivisciate dall'amministrazione comunale cioè cosa ha fatto e cosa fare le cose dette vengono si si l'amministrazione ha proposto di realizzare con dei otto piani operativi che è una sintesi una declinazione delle undici fasi che avete visto prima in quel diagramma circolare la prima cosa la cosa più importante è l'istituzione della segreteria tecnica del PUNS praticamente la cabina di regia è di controllo di tutte le attività che si fanno in questo campo la seconda fase è subito il coinvolgimento dei cittadini quindi il processo di comunicazione e partecipazione dei cittadini e le scelte della mobilità la terza azione è la riqualificazione già una scelta ambientale dell'area centrale e con protezione anche delle zone risidenziali la quarta azione penso una delle più importanti è il potenziamento del servizio di trasporto pubblico la quinta l'estensione delle reti delle piste ciclabili la sesta il miglioramento della circolazione viaria della sicurezza stradale la settima la revisione della politica della sosta l'ottava la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti che poi è a cascata praticamente una conseguenza di tutte le azioni fatte prima in queste otto attività fatte in questi quasi cinque anni quattro anni abbiamo fatto insieme con l'ufficio di piano fatto una raccolta di tutto quello che è stato fatto ma anche abbiamo individuato le cose ancora da fare e chi verrà dopo a gestire poi il comune avrà questa possibilità appunto di raccogliere la sfida e vedere un po' se seguire un po' la stessa linea passando appunto ma velocemente visto anche l'orario per tutte queste otto azioni vabbè sapete avete a disposizione il documento completo quindi sono tante pagine in cui vengono spiegate cosa è stato fatto e con tutte anche le derivi di giunta approvative di queste azioni però al volo vi dico magari le cose più salienti allora nella prima azione quindi del primo operativo quindi l'istituzione della segretaria tecnica del PUMS ormai ci sono le delibere l'ufficio è praticamente stato istituito in modo permanente con gli operatori anziché ringrazio perché la pazienza è stata reciproca per tutte le informazioni che si richiedevano di volta in volta per fare le varie progetti la seconda parte riguarda la partecipazione dei cittadini e le scelte sulla mobilità voi avete questa bellissima iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi ci sono state proprio sedute sul tema della mobilità sostenibile poi la grandissima campagna sul cambio a marcia usa la testa che ha avuto anche un richiamo internazionale che era un laboratorio a cielo aperto per il dibattito sul tema della mobilità sostenibile si è parlato poi si sono distribuiti diversi questionari sui problemi della mobilità sulle aspettative anche dei ragazzi la partecipazione alla settimana europea della mobilità sostenibile che speriamo che parteciperete anche agli anni futuri e poi tutta una serie di attività adesso ce ne sono tantissime sempre legate alla sensibilizzazione del tema era stato già citato il progetto di comunicazione della società della cooperativa aerica ma tante altre azioni dove l'amministrazione ha partecipato come il progetto di finanziamento dei progetti pedibus e bicibus oppure altre iniziative di ambito locale come la cambia marcia usa la testa moviti bene vivi meglio quindi per promuovere anche l'attività fisica a livello poi locale spostamenti quindi non solo con le auto ma a piedi in bicicletta in programma qui ho elencato alcune cose che l'amministrazione era intenzionata a proseguire quindi ancora l'implementazione del progetto pedibus e bicibus con le direzioni scolastiche la partecipazione ancora alla settimana europea dell'unità sostenibile il terzo punto riguarda la riqualificazione ambientale urbana centrale delle zone residenziali come sapete avete visto benissimo è stato realizzato il progetto dei percorsi del commercio della città di Bra quindi sono state ampliate le zone a traffico limitato nel centro storico c'è un progetto di aumentare e ampliare l'istituzione delle ZTL quindi anche sull'asse Cavour Piazza Giolitti ci sono dei progetti anche delle simulazioni su questo tema chissà se la prossima amministrazione oserà anche la butto lì così in modo provocatorio lanciarsi nella ZTL quindi non la periodizzazione ma la zona traffico limitato anche di Corso Garibaldi perché no anche di questa di Piazza Caduti per la Libertà che sarebbe il top e poi un'attività che dovrà essere invece fatta in modo un po' più diretto infatti è in programma è sono la realizzazione dei cosiddetti WUNERF cioè le isole ambientali adesso ci siamo occupati delle zone centrali ma la parte più importante invece sono le parti residenziali e abitative dove l'auto deve essere naturalmente non è solo un mezzo ma non è il protagonista in città ecco invece i protagonisti sono le persone e i quartieri si possono costruire in modo che si capisca che chi entra in un ambiente residenziale non entra in un'autostrada quindi bisogna fare delle accortezze anche di tipo progettuali su ogni quartiere sono dei piani particolareggiati che impegnano risorse impegnano molto tempo e quindi uno verrà messo in programma mi auguro dalla prossima della prossima amministrazione il quarto tema fondamentale potenziamento del servizio di sasporto pubblico viene qui pubblicato la copertina del progetto di riorganizzazione del TPL delle rine urbane e delle sururbane un grandissimo lavoro fatto per adeguare la domanda che è cambiata nel corso del tempo rispetto ai servizi vetusti che facevano anche dei percorsi non più cogenti un grosso lavoro fatto dall'amministrazione comunale degli uffici del consigliere Ferrero che ha portato dei grandi risultati e va bene in questa slide c'è anche l'inaugurazione della rettificazione della tratta ferroviaria tra Abebra tanti temi per farvi capire l'importanza e la complessità nell'appendice che vedete nei documenti ci sono tutte le cose che sono state fatte le altre che sono in programma ma poi nel caso se il consigliere Ferrero vuole raccontarci qualcosa di tutto il lavoro fatto e anche sull'andamento un po' su come stanno andando un po' gli sviluppi sul tema anche con le fuerovie c'è tanto un altro tema nel Movicentro questo centro di intescambio importante da sviluppare su cui appunto ci sono dei progetti l'altro tema siamo quasi alla fine abbiate ancora un po' di pazienza è l'essenzione della rete delle piste ciclabili è un tema molto importante e anche il sindaco è sensibile a questo tema siamo un po' sfortunati dall'orografia del territorio dagli spazi ormai già realizzati e la normativa c'è ci sono quattro articoli in croce purtroppo questi quattro articoli ci mettono un po' le mani ci mettono un po' le mani un po' così non possiamo fare non possiamo fare grosse cose se non abbiamo individuato insieme dei possibili itinerari quindi sono nord-sud est-ovest e poi una specie di circonvalazione urbana perché i grossi progetti c'è già un piano delle piste ciclabili però è diciamo tipo estrourbano perché ci sono gli spazi per poterli realizzare la difficoltà quindi una grossa sfida realizzare all'interno dell'edificato quindi dell'ambiente già consolidato e si può fare un po' giocando sulla promiscuità del traffico quindi ad esempio se istituiamo delle zone traffico limitato quindi il traffico veicolare è ridotto allora anche la normativa mette la promiscuità tra pedoni e ciclisti è lì che vorremmo vorremmo andare quindi la proposta è stata studiata ci sono delle proposte anche da valutare in più in programma c'era anche l'estensione della pista ciclabili di strada casa del bosco con quella di viale madonna dei fiori che si andava a integrare anche a questa proposta tante cose sono state fatte invece come azione 6 il miglioramento della circolazione viare della sicurezza stradale come è stato accennato si è stata fatta una grossissima campagna di monitoraggio del traffico perché uno dei punti di partenza era monitorare la situazione dello stato di fatto sono stati costruiti dei modellini che simono le macchine che vanno in città per vedere cosa succede se si cambia un senso unico o si chiude una strada si sono messe in sicurezza degli attraversamenti pedonali quello di piazza della stazione quella di strada orti è stato approvato il progetto definitivo della copertura della trincea ferroviaria alba brana nel tratto tra via cune e strada orti c'è stato lo studio di accessibilità nuovo polo scolastico di via trento e trieste c'è l'accordo di programma con rfi per la soppressione di tre passaggi passaggi liello e poi sono state fatte delle azioni mirate sulle fridificazioni delle intersezioni in programma c'è la messa di sicurezza di tanti attraversamenti pedonali tanti zone pubbliche ma sono tante attività che andranno poi riprese e attivate questa è l'immagine per far vedere nei documenti che troverete in appendice uno dei tanti studi riguardo il monitoraggio fatto nel 2015 erano state conteggiate circa 100.000 auto che entravano in BRA si era notato che però non era tutto un flusso parassite cioè il traffico cattivo quello che entra passa e fa soltanto danno in realtà la componente di scambio è molto elevata quindi BRA attrae e genera traffico per cui bisogna porre attenzione quando si dice chiudiamo le strade o non facciamo andare più le persone in auto perché comunque sono auto dei braides in qualche modo la cosa poi era confermata adesso ho dato giusto un flash dalle indagini fatte per origine e destinazione dove questo traffico peraltro non è di tipo sistematico casa lavoro casa scuola eccetera ma c'è una componente occasionale importante circa il 30% quindi anche lì è difficile capire come andare a intercettare le direzioni prevalenti del traffico e a maggior ragione per quello che dicevamo che è tutta un'attività un po' dinamica quella che abbiamo visualizzato gli ultimi due capitoli riguardano la revisione della politica della sosta e poi la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti sulla politica della sosta è stato un po' accennato quello che si potrebbe fare è stato ricostruito il quadro di partenza e allo studio si è parlato di come fare a provare a realizzare parcheggi di interscambio parcheggi di corrispondenza il tema è molto ampio tant'è che soltanto con la sosta a volte si riesce ad agire direttamente sul traffico come dico sempre ci si sposta con l'auto o con i mezzi per poi fermarsi quindi se si agisse anche non soltanto sul motivo ma anche sull'origine ma anche sulla destinazione dello spostamento si possono orientare un po' anche gli spostamenti stessi l'ultimo tema che non è però l'ultimo di importanza ma che viene accascata in relazione a quelle cose che si sono dette prima riguarda la riduzione dei consumi energetici delle emissioni inquinanti quindi si fa direttamente riferimento al piano d'azione per l'energia sostenibile e sono documenti che viaggiano paralleli il PAES adesso questo tema viene ripreso poi dopo in programma infatti lo giriamo come programma c'è la cosiddetta VAS valutazione mentale strategica del PUMS con rapporto ambientale quindi la parte quella canonica dedicata all'ambiente viene trattata non alla fine ma in parallelo cioè la VAS è uno strumento di pianificazione come il PUMS che valuta in termini generali quali sono le ricadute positive e negative delle azioni di piano sull'ambiente e questa attività viene fatta appunto in parallelo non solo in parallelo ma anche di volta in volta monitorando e confrontandosi con i portatori di interesse questa è un'attività importantissima ma è molto impegnativa è quella che poi dedicherà la maggior parte del tempo per chi poi vorrà proseguire in questa avventura del piano urbano della mobilità sostenibile quindi la VAS vanno proprio insieme noi nel gruppo nel nostro studio abbiamo anche quindi diciamo gli specialisti di questa attività che non siamo riusciti a mettere in campo perché non ci siamo ancora arrivati come dicevo prima il tema è complesso è vastissimo sapete benissimo cosa vuol dire anche a casa volta semplicemente aprire e chiudere una strada un varco un passo carraio cambiare il senso di marcia è complicato figuriamoci quando dobbiamo estendere le zone a traffico limitato quindi prevedere la chiusura di certe zone al traffico privato concludo soltanto dicendo che l'ultima vera fase del piano urbano della mobilità sostenibile riguarda la novità che è stata introdotta con l'istituzione dei PUM stessi che è il monitoraggio degli indicatori io vi faccio soltanto vedere ad esempio velocemente per ognuno degli otto le otto azioni adesso ne faccio vedere soltanto magari non so soltanto ecco l'obiettivo il processo di comunicazione l'amministrazione dice guarda secondo me quest'anno abbiamo fatto x incontri con i cittadini abbiamo speso tot euro per le campagne di comunicazione per noi il valore obiettivo è non so raddoppiarlo fare un'altra azione questo è un esempio però ci sono altri indicatori più misurabili come non so l'estensione delle piste ciclabili a Brac ci sono 7 km di piste ciclabili che sono esterne l'amministrazione decide di proseguire ad esempio quel progetto che abbiamo fatto vedere raggiungiamo valore obiettivo 10 poi periodicamente si verifica se veramente siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo lo stesso riguarda non so il traffico la sicurezza stradale parlo di non so veicoli che entrano in città noi li abbiamo monitorati nel 2015 si potrebbe vedere non so con una previsione tra 5 anni quanti veicoli sono entrati in più o in meno e si fa un paragone e da lì si tara magari se certe azioni sono da migliorare o meno io avrei appunto adesso finito con inquadrare queste cose perfetto se l'ho fatta velocemente grazie grazie l'ingegner scusate se sono stato troppo veloce ma d'Alessandro grazie adesso se avevo dunque il vice sindaco mi ha detto che forse si riservava di nuovo di intervenire adesso oppure ok va bene quindi apriamo il dibattito e si può intervenire consigliere Tripodi prego grazie presidente grazie all'ingegner d'Alessandro per la relazione e per la competenza anche la facilità quella quale anche ha spiegato alcune questioni importanti ma ricordo perché ho voluto proprio fare una prova così ho provato a scrivere sul mio smartphone Pums bra esce fuori un articolo di novembre 2015 dove da lì partiva il tutto abbiamo parlato di fasi prima seconda terza fase mi sembra che questa amministrazione a livello di piano urbano della mobilità sostenibile sia rimasta al primo livello ma questo primo livello prima fase chiamiamola come la vogliamo è rimasto così quindi per quanto ci riguarda un documento importante complesso pieno di informazioni quindi nulla nulla da dire sul lavoro fatto dalla società mobilità ma un lavoro che nell'atto concreto questo è a causa dell'amministrazione credo che siamo veramente rimasti nella prima fase si parla di istituzione di una segreteria tecnica fatto si parla di riqualificazione ambientale di alcune aree si parla di potenziamento del trasporto pubblico si parla di miglioramento della circolazione allora io sto vivendo in un altro mondo per attraversare Bra in questi cinque anni ma non in questi cinque anni perché spesso e volentieri questa amministrazione mi dispiace ma si dimentica che è qui a governare da dieci e non c'è nessuna normativa nazionale che imponga che le varie fasi del piano urbano di mobilità sostenibile per essere attuato debba volerci un tempo di cinque anni queste sono scelte da parte dell'amministrazione che spesso ha preferito e preferisce rimanere su un piano un pochettino più da fumo e poco arrosto perché conviene così perché mi sembra quando si parla di aumento o comunque della rete ciclabile delle piste ciclabili io vorrei sapere in termini numerici in termini numerici di quanto sono state prolungate le nostre piste ciclabili in dieci anni voglio sapere in termini numerici in che modo sono state collegate le nostre frazioni con piste ciclabili e non solo mi sembra di sentire in continuazione cose che possano far distrarre l'attenzione ai cittadini comuni che vivono la nostra città paes pooms vaes vas scusate ma qui non si comprende il fatto che camminando per la città di Brahe mi è piaciuto l'intervento di una parte dell'ingegnere dove sarebbe bellissimo avere che non fa appunto un suo intervento personale quindi non dell'amministrazione sarebbe bellissimo avere Corso Garibaldi chiusa Piazza Caduti chiusa ma poi subito dopo ha fatto vedere semplicemente un'immagine dove ci sono purtroppo per fortuna forse perché continuiamo a essere sempre sulla prima fase dei cittadini dei nebraidesi che a Braci vengono grazie a Dio per far sì che magari il nostro commercio cittadino rimanga in vita e quindi va bene tutto siamo d'accordo con tutto siamo d'accordo a programmare tutto ma noi riteniamo che tutto quello che è stato fatto sinora è stato fatto senza una reale programmazione o visione di quello che ci siano le priorità stabilite anche a livello della mobilità sostenibile si parte dalle riqualificazioni fatte ogni volta seguendo dei bandi così andando diciamo navigando a vista qui personalmente non si può minimamente pensare di rimanere sempre nella prima fase io vi leggo perché veramente ci sono rimasto e proprio sul sito del comune di Bra scrivete Pum Bra Pums scusate infatti Pums grazie tante sei molto gentile abbiamo il tempo no presidente si ancora nove minuti perfetto grazie la commissione non c'è no 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 ma c'è c'è ambiente mobilità qualità della vita un piano urbano a Bra un filo rosso per legare tra loro una serie di azioni di riordino sulla mobilità urbana di Bra mirate alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità della vita sarà questo il contenuto del piano urbano della mobilità sostenibile nella città della Zizzola lo strumento che avrà la funzione di raccogliere e dare sistematicità alle diverse attività già intraprese dell'amministrazione negli anni proiettandone nel medio periodo per studiare una serie di ulteriori azioni che pongano in raccordo i settori della viabilità del trasporto pubblico della mobilità dolce della pianificazione dello sviluppo urbano ed economico di questo si è parlato in municipio oggi martedì 24 novembre 2015 24 novembre 2015 oggi mi sembra di aver vissuto lo stesso e identico momento qui sembra per questa amministrazione che il tempo non passi mai grazie e invece il tempo passa e chi ha chiesto la parola è il consigliere Ferrero prego grazie presidente non vorrei partire subito con una battuta riguardo all'intervento del consigliere che ha preceduto magari la faccio poi quindi credo la faccio quando non fa la cazierta la cazierta la cazierta ecco adesso adesso c'è prendiamo l'altro se non va ci va un'amplificazione sostenibile lo mettiamo in agenda per la prossima amministrazione niente ringraziamo anche l'intervento dell'ingegnere di Alessandro che è stato che ha curato per buona parte direi quasi tutto il progetto del POMS per la città di Bra quindi mi limito ad alcune sottolineature magari ripetendo per poi rimarcare per rimarcare l'importanza del contenuto di questo documento e poi farò qualche approfondimento sulla parte che ho avuto il piacere e l'onore di seguire più da vicino vale a dire la revisione della rete del servizio urbano del trasporto pubblico con bus ecco la prima parte dell'esposizione dell'ingegnere di Alessandro si riferiva in particolare ai riferimenti legislativi quelli europei il PUM e poi il POMS quelli europei e quelli italiani e le città tenute a fare questo POMS che noi non eravamo però lo si è affrontato lo stesso la seconda parte ha fatto l'elencazione delle cose già fatte cose più importanti però è l'elencazione di un programma di quelle ancora da realizzare con le linee da seguire e di qui è stato chiamato il documento direttore che la prossima amministrazione potrà ricepire modificare o chissà cosa vorrà fare la premessa credo parta da un assunto quello di far convivere in questa città i modi di vivere in questa città da una parte migliorare il modo appunto di viverla sotto l'aspetto tutto l'aspetto della questione ambientale e dell'inquinamento però senza nel contempo ridurre la mobilità delle persone e nemmeno prevedere di eliminare o ridurre il traffico veicolare privato detto questa non è nell'intenzione però una serie di operazioni per modificarlo quindi modificare i modi di accedere alla città aumentandone questa accessibilità coordinare facendo convivere tre modi di trasporto di trasporti tre modi principali che sono la motorizzazione privata il trasporto pubblico la ciclopedonalità emanando per coordinare questi tre sistemi emanare i provvedimenti che consentono ai cittadini nel momento della valutazione costi benefici circa il modo e il mezzo da utilizzare per muoverci in città possa far pendere la bilancia dalla parte del beneficio con magari dei provvedimenti incentivanti anche sotto l'aspetto economico per l'uso del mezzo pubblico le abitudini sono molto molto difficili da scardinare e da cambiare un buon servizio pubblico qualche incentivo economico ad usarlo la fissazione della gerarchia delle strade non farle di tutto un ermofascio che si usa indipendentemente e senza alcuna regola una strada di attraversamento la più importante è magari un veicolo che passa sulla parte alta quindi se non fare una gerarchia di organizzazione di questa viabilità e soprattutto una nuova regolamentazione della sosta non sto a ripetere delle cose che sono ben elencate nelle prime pagine nelle prime venti pagine di questo documento che così inviterei tutti a leggerlo con attenzione perché dà dei suggerimenti veramente importanti sul primo punto di queste cose da fare quindi per migliorare questa situazione quindi un buon servizio pubblico mi soffermo quindi un attimo di più anche perché all'interno del POMS e qui ecco posso anche metterla adesso così un po' la controbattuta dal consigliere che mi ha preceduto ecco questo intervento di modifica del servizio pubblico locale e credo sia al momento la forse la parte più pesante più importante delle cose realizzate dal POMS in quest'anno quindi non mi risulta per fuori che sia dato via da VRA per qualche anno che si sia alla fase iniziale come indicava il consigliere e quindi mi soffermo un attimino per così comunicare cose che ho già detto l'altra sera in commissione viabilità riguardo a questo progetto di revisione del TPL sia per la parte urbana che per la parte della conurbazione che è giunto finalmente a termine l'approvazione scritta già concordata sarà oggetto di comunicazione domani lunedì martedì quindi i prossimi giorni sarà la vera comunicazione scritta quella che dice si proceda con questa impostazione con questa organizzazione con questo numero di chilometri c'è il finanziamento per poterlo attuare brevemente e nel concreto di cosa si tratta ecco siamo partiti da una situazione che dura da 2009 e 2010 da quando è stato attuato il primo servizio di trasporto pubblico a Brahm una situazione che si è poi mantenuta nel tempo con diversi tagli peggiorativi ma una situazione che di fatto dice che qui a Brahm c'è un servizio pubblico urbano un servizio conurbato con gli altri comuni un servizio extraurbano e un servizio ferroviario che non si parlano che non dialogano ognuno fa la programmazione per conto proprio indipendentemente dall'altro nessun coordinamento nessun cadenzamento e quindi il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi tutti e da tempo bus praticamente semi vuoti con grande spreco di denaro quindi occorreva dare uno scrollone a questa situazione occorreva cambiare ecco di qui l'ideazione e la progettazione di un nuovo sistema consigliere Triposi ci è voluto molto molto tempo a ideare una cosa così in Irdele Santo non sa qualcosa perché abbiamo interlocuito tante tante volte ci ha dato anche tanti consigli vengo a un po' di dati ecco il servizio nuovo che andrà con tutta probabilità in vigore si è adesso prospettato il 2 maggio nel senso che si è rimandato un po' perché c'è la fiera di Pasqua con l'occupazione del piazzale del Movicentro quindi la si è rimandata un pochettino la previsione è quella del 2 maggio cosa andrà in funzione avrà di nuovo sette linee urbane potenziate coordinate con i treni e già programmate con il collegamento con l'ospedale appena sarà attivato c'è solo da allungare la riga c'è già tutti gli orari predisposti servizi che sono cadenzati allo stesso minuto non con quel guazzabuglio di oggi che non si sapeva mai quando passava un bus un servizio cadenzato con un potenziamento notevole nel centro di Bra da nord a sud la cosiddetta dorsale passerà un bus ogni 15 minuti quindi chiunque si voglia muovere in direzione andare a Madonna Fiori o da Madonna Fiori venire giù andare al cimitero o andare tutto dove vuole andare ogni 15 minuti ci sarà un bus che viene da nord a sud e altrettanto ogni 15 minuti che va da sud a nord è un cambiamento ritengo notevole all'inizio si pensava perfino fosse leggermente eccessivo il 15 minuti però anche sul consiglio di esperti anche il stesso Agnale D'Alessandro anche l'Agenzia della Mobilità ha detto e scritto che un buon servizio per chiamarsi tale nella parte specialmente più trafficata e centrale deve avere una cadenza di 15 minuti questo per la parte centrale poi ci sono altri c'è un collegamento di tutti i quartieri della città collegati a 30 minuti quindi ogni quartiere della città passano due bus all'ora dai quattro quartieri più importanti che è la zona Bescurone la zona del sud ovest oltreferrovia la zona di San Giovanni lontano ecco tutte queste zone in tutte queste zone passerà un bus ogni 30 minuti poi ci sono collegamenti quelli conurbati quelle con le città che sono con noi conurbate quindi Pocapaglia Sanfret e Cherasco con i quali i collegamenti sono con Cherasco ogni 30 minuti in due direzioni diverse uno sulla diretta chiamiamola che poi specificherò che è andato qui a Carrù e un'altra che passa via via Bergoglio Roreto e che serve a collegare la città di Cherasco con la sua frazione più importante i 30 minuti anche di collegamento con Sanfret però qui uno è fatto con il bus e l'altro fatto con il treno ma sono praticamente due linee parallele stessa cosa vale ovviamente per Bandito che è collegato alla mezz'ora una con il bus e una con il treno che è parallelo ci sono poi già in funzione due linee extraurbane praticamente nuove perché il rafforzamento è tale che quello che c'era prima poteva considerarsi quasi inesistente ed era quello della Valtanaro che a partire dal 94 quando c'era il treno c'era un bel po' di servizi poi la Lovione ha portato via tutto con i suoi 61 morti ed è stato sostituito dai bus in un primo momento il numero quasi uguale ai treni e poi con il passare del tempo siamo arrivati a oggi che ci sono quattro corse quattro quindi non esiste il collegamento della Valtanaro con questo nuovo servizio extraurbano BRA è collegato quindi da BRA fino a Carrù per tutta la Valtanaro con il cadenzamento orario stessa cosa vale per Fossano un cadenzamento orario con Fossano con un prolungamento di cinque corse dirette fino a Cuneo quindi cinque cose che vanno da BRA a Cuneo senza dover cambiare a Fossano messe negli orari di lavoratori e studenti questo è il quadro qualche numero perché poi detto cosa si fa bisogna anche poi vedere a quanto ammonta sta roba per dare anche l'importanza del cambiamento che verrà ad essere oggi il servizio urbano di BRA urbano e conurbato ammonta a 380.000 km il nuovo sempre BRA e conurbato ammonta a 534.000 km sono siamo al 40% in circa in più di potenziamento del servizio stessa cosa vale per le linee di Carrù e la linea di Fossano che c'è un aumento di 135.000 km ma non perché siano 135 perché c'è stata una grossa fase di recupero su linee vicine e quei km sono stati portati lì altrimenti avrebbe un costo di queste due linee che va a superare 400.000 km quindi un progetto che è nel frattempo mentre qui c'è questa organizzazione con questo potenziamento pochi giorni fa c'è stata l'entrata in servizio a Cuneo di una stessa riorganizzazione che ci ha impiegato pur essa quattro anni a essere fatta con un lavoro continuo che ha portato una diminuzione di 220.000 km che sono serviti poi a finanziare in parte Bra in parte Alba in parte Saluzzo e in parte parecchi altri quindi ecco che c'è stato un livellamento di livello provinciale e un riconoscimento delle città che finora erano state maltrattate per colpa del cuneocentrismo che c'era con le gestioni che ci sono state quindi come vedete è un progetto molto oneroso e quindi necessiterà appena andato in vigore che ci sia anche un po' l'impegno un impegno da parte di tutti credo senza distinzione tra maggioranza minoranza chi c'è chi ci sarà che o questo nuovo servizio si riesce a dimostrare con la puntualità e con l'efficienza che veramente dà la possibilità ai beraidesi di cambiare quando dicevo della bilancia costi benefici di portare il beraidesi a dire metto sulla bilancia il costo di andare con la macchina ci metto sull'alto tempi costi manutenzioni rischi dall'altra ci metto il costo di andare con un bus se si riesce a fare in modo che questa bilancia possa pendere da questa parte credo che il gioco possa essere fatto ma non basta dirlo perché se questo non avvenisse praticamente questo finanziamento da parte della regione notevole rispetto al presente non è che ci sia un vincolo scritto ma c'è una come si dice un accordo sulla parola che fra un anno si farà una revisione delle cose se ci sarà una un trend di aumento dei passeggeri allora la cosa proseguirà continuare se invece verrà dimostrato che alcune zone invece proprio non c'è alcun movimento in aumento la previsione sarà quella di una diminuzione e di un taglio ancora rispetto a questo che è il succo c'è poi anche tutto un corollario attorno di azioni che si faranno in questi giorni tra adesso e il 2 di maggio nel quale verranno modificate cambiate tutte le paline tutte le vele nella quale ci sarà una dimensione più grande perché quelle attuali non sono a norma verranno messe tutte nuove con un logo che è comune per tutta la provincia ogni fermata avrà un suo numero scritto bello grande che è di georeferenziato in modo che cliccando su quel numero sia la risposta di dove uno si trova esattamente il tempo di arrivo del bus ci sarà quindi questo cambiamento di Machillage diciamo ci sarà e sono 280 paline quindi non parliamo di poco quindi anche un costo un esporso da parte del comune ci sarà anche la 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 come si chiama la segnaletica orizzontale con il ridisegno di tutti gli stalli gialli anche questi 280 tutti da rifare in modo che questa cosa e ci sarà al Movicentro dove convergeranno tutti questi bus la possibilità di mettere in funzione speriamo già in quella data anche se in modo provvisorio di una sala d'attesa per bus nel quale ci sia una persona un URP di un ufficio di relazione col pubblico che dia tutte le indicazioni necessarie per un buon uso di questo servizio grazie grazie a lei consigliere Ferrero raccomando come sempre di stare nei tempi questo bene aspettiamo altri interventi grazie Marengo prego grazie presidente cercherò di essere breve naturalmente voglio iniziare il mio intervento ringraziando anch'io l'ingegner D'Alessandro e mobilitar per il lavoro svolto in questi anni che sicuramente non è stato facile l'ingegnere arriva da una grande città come Milano quindi con problematiche totalmente diverse rispetto a una città come la nostra ho letto il documento che ci è stato inviato e sentivo questa sera la relazione devo dire che tutte ottime idee naturalmente è un po' un libro dei sogni assolutamente condivisibile ma quando poi si pensa all'attuazione le cose diventano molto più difficili è stato detto molto da chi mi ha da chi mi ha preceduto non voglio non voglio dilungarmi sicuramente il nuovo sistema di trasporto avrà il suo effetto magari in tempi medio e lunghi ma bisognerà abituare i braidesi a una mentalità una mentalità nuova quella del trasporto del trasporto urbano a me però quello che veramente fa caponare la pelle fa venire la pelle d'oca e sentire questa cifra che era già riportata nei documenti che è stata riportata questa sera e che il monitoraggio ha stabilito centomila passaggi di auto ricordiamo una città che non arriva a 30.000 abitanti e la cosa più grave secondo me è che proprio sulla base di questo numero di passaggi automobilistici di auto private mi spiace ripetermi l'ho detto prima l'ho detto in un passato consiglio ma è un tema che mi sta veramente a cuore è proprio l'individuazione del nuovo polesso scolastico già in un documento che ci era stato consegnato proprio da mobiliter alcuni mesi fa in relazione al traffico generato in via Trento Trieste si prevedeva un aumento se non ricordo male del 20% che era un dato però assolutamente empirico io ritengo perché non si può calcolare con una precisa con una precisione svizzera il numero di auto che andranno a implementare il traffico in quella zona mi permetto di dire conoscendo la mia città che quel numero sarà molto maggiore per tutta una serie di motivazioni è stato detto l'altra volta quando abbiamo discusso della prima variante al piano regolatore proprio in merito al nuovo plesso scolastico i braidesi per abitudine per comodità sono abituati a spostarsi in auto oggi le famiglie vanno a lavorare e spesso entrambi i genitori lavorano e portano i ragazzi a scuola quindi c'è l'abitudine di andare a lavorare utilizzare il proprio mezzo e trasportare i figli accompagnare i figli a scuola magari con una breve sosta lasciandoli davanti all'ingresso per poi potersi recare al lavoro tutto questo su un tratto viario che oggi e lo stesso Mobiliter lo riconosce è il tratto più trafficato dell'intera città oggi oggi immaginiamoci 420 bambini che bambini ragazzi più gli insegnanti più il personale non docente che affolleranno per andare al lavoro o a scuola al mattino proprio quella strada perché possiamo pensare a tutte le riorganizzazioni che vogliamo la rotatoria in piazza Giolitti un nuovo sistema di piste ciclabili la terza corsia possiamo immaginare quello che vogliamo ma quella sarà il tratto più trafficato di brano dobbiamo dircelo lo è oggi a maggior ragione lo sarà in futuro ecco che allora tutto il piano che viene presentato che è assolutamente condivisibile sulla carta perché disegna una città in cui tutti vorremmo vivere ma che trova proprio in questo esempio quello del plesso scolastico la difficoltà implicita nella realizzazione noi oggi vogliamo una città più sostenibile e infatti chi mi ha preceduto nell'intervento mi sono insegnato le sue parole non ha intenzione di limitare il traffico veicolare da parte di questa amministrazione allora con la scuola in centro lo si aumenta e lo si amplifica noi semplicemente prendiamo un traffico che oggi è già congestionante e lo spostiamo da una zona ad un'altra ingolfandola totalmente siamo tutti di bravo basta passare a certi orari con il passaggio a livello chiuso ci sono le macchine ferme in certi orari c'è la coda che arriva fino a piazza Giolitti e qui non è una questione di maggioranza o minoranza di destra o sinistra è un dato oggettivo immaginiamoci certi orari al mattino col passaggio a livello chiuso e con la scuola che vede arrivare al proprio interno una moltitudine di centinaia di ragazzi più il personale non docente e il personale docente non oso neanche pensare quante centinaia o quante migliaia di auto in più ci saranno quel giorno e potranno essere contate nei passaggi noi avevamo proposto come minoranza e condivisa da tutta la minoranza anche non solo di centrodestra un'idea alternativa noi pensiamo come modello ideale di città che si debba spostare in periferia le scuole e oggi proprio grazie al nuovo trasporto viario e nuovi bus si potrebbe obviare anche il traffico veicolare invitando i ragazzi a prendere il bus per raggiungere il nuovo plesso scolastico ecco che oggi diventa difficile quindi accettare il bus così com'è non perché non si è d'accordo o si è in disaccordo sulla realizzazione è stato descritto un piano perfetto a cui tutti vogliamo aderire ma la realtà dei fatti è che si trova una grossa difficoltà nella realizzazione io ritengo avendo letto tutti i documenti che ci sono stati mandati ma soprattutto vivendo la realtà braidese giorno per giorno che proprio l'individuazione in quel loco del nuovo complesso scolastico creerà enormi danni alla circolazione viaria è un'utopia pensare che il 60% dei ragazzi solo perché vivono nelle vicinanze andranno a scuola a piedi allora si può pensare che oggi nel momento in cui vanno alla scuola media piumati in via Barbacana solo perché vivono nelle vicinanze debbano andare a scuola a piedi lo stesso eppure la strada al mattino viene chiusa proprio per evitare problematiche proprio per evitare un ingorgo di traffico ma se oggi i genitori accompagnano già i ragazzi a scuola il più possibile vicino alla scuola perché non dovrebbero farlo in futuro perché non dovrebbero farlo vicino alla nuova scuola anzi a maggior ragione un po' per comodità dobbiamo dirci si è abituati a portare oggi i nostri figli il più possibile vicino il più possibile in prossimità della scuola quindi il piano che ci è stato presentato è totalmente condivisibile sulla carta la realizzazione permettetemi è un'altra cosa e io credo che compito di un'amministrazione sia valutare la realtà dei fatti sia oggettivamente guardare a quelli che sono i dati del traffico che per una città come la nostra sono permettetemi spaventosi diceva l'ingegnere Braia è una città attrattiva noi attiriamo un traffico che arriva dai comuni di Mitrofi molti arrivano a lavorare nelle aziende braidesi ricordo ne parlavo col consigliere Maggiù forse un mese fa che in una commissione viabilità probabilmente di alcuni anni fa io feci una proposta che so essere in alcune in grandi città del nord Europa messa in opera già oggi cioè una sorta di car sharing le aziende vengono stimolate ad incentivare i loro dipendenti che abitano nella stessa zona a dividere la macchina quindi tre quattro persone possono raggiungere il posto di lavoro semplicemente facendo il giro e accompagnando i colleghi al lavoro suddividendo magari la macchina molte aziende addirittura e molti comuni del nord Europa incentivano economicamente questa soluzione vedo che l'ingegnere annuisce e mi darà ragione ecco bravissimo bravissimo ecco questo significa effettivamente incidere in maniera ferma su quello che è il traffico veicolare all'interno di una città se noi adottassimo una soluzione simile mi rendo conto che è difficile non non voglio fare i conti senza avere un'idea chiara di quelle che potrebbero di quelli che potrebbero essere le cifre da mettere a disposizione però se noi educassimo anche le aziende in primis le grandi aziende braidesi ma anche i nostri concittadini a condividere questo passaggio già elimineremo grossa parte del traffico se potessimo fare la stessa cosa con i genitori che accompagnano i ragazzi a scuola sicuramente potrebbe essere un incentivo maggiore alla riduzione del traffico veicolare però anche questo io mi rendo conto è un piano utopico almeno nel breve periodo può essere pensato nel periodo medio-lungo ma nel breve periodo diventa difficile e nel breve periodo se la scuola verrà realizzata in quel luogo noi invece avremo tutte le condizioni per avere un traffico congestionato in determinati orari al mattino e nel primo pomeriggio quando i ragazzi escono da scuola noi avremo un traffico che è decisamente congestionato e difficilmente sarà risolvibile vediamo oggi in questi mesi c'è stato ci sono stati lavori sulla strada del Bergoglio quindi ci sono state delle difficoltà abbiamo visto tutti io abito dal ponte di via Cuneo al mattino vedevo code immense ecco col pensiero io andavo in via Trento Trieste davanti alla scuola e immaginavo quelle stesse code che oggi ci sono a causa dei lavori sulla salita del Bergoglio e che però sono limitate temporalmente perché sappiamo che lavori hanno avuto inizio hanno avuto fine ci sono stati lavori sulla rotatoria di via Cuneo ma hanno sempre avuto un inizio e una fine bene io quelle code di auto me le immagino in futuro non per un periodo limitato ma costantemente proprio in quel tratto di strada e allora ecco che diventa difficile oggi dare un giudizio positivo non tanto sul Pums e sul piano realizzato di per sé perché è assolutamente condivisibile io credo che qui nessuno possa permettersi di dire non sono d'accordo o c'è un qualcosa che non mi convince di questo piano ma è un piano che purtroppo per quanto mi riguarda almeno per quanto riguarda la scuola e l'individuazione l'ubicazione della scuola in quel luogo lo vanifica perché non dà indicazioni su come si possa ridurre praticamente e non solo teoricamente il traffico veicolare questa sarà una tematica che riguarderà la prossima amministrazione indipendentemente da chi da chi vincerà le prossime elezioni credo che i passaggi l'ho detto l'altra volta siano stati affrettati se veramente si voleva fare una cosa del genere la si doveva fare prima non si doveva lasciare in eredità negli ultimi mesi con votazioni di variazioni al piano regolatore questa polpetta avvelenata passatemi il termine alla prossima amministrazione che indipendentemente dal colore politico che avrà avrà in gestazione per i prossimi 30 anni una scuola e quindi oltre alla parte economica e quindi l'affitto all'INAIL che si avrà dovrà gestire una situazione di traffico che sarà sempre costantemente congestionata e quindi nel medio periodo non credo si possa trovare una soluzione non immaginiamo addirittura non immaginiamo nel breve periodo ma neanche nel lungo o nel lunghissimo periodo io vedo una soluzione pratica che possa porre rimedio a questa situazione l'unica mi permetto di ricordarlo è proprio l'individuazione di un altro luogo per quella scuola noi avevamo proposto la ex fornace abbiamo proposto il terreno in via Gavotto già proprietà del comune siamo stati propositivi o meno abbiamo cercato di esserlo ecco che individuare in questi due luoghi soprattutto dalla fornace secondo me sarebbe il luogo ideale il nuovo plesso scolastico potrebbe smaltire enormemente il traffico in centro proprio perché grazie anche al nuovo piano del traffico dei bus per chi mi ha preceduto ricordava che ogni quarto d'ora passerà sulla variante nord-sud un bus ecco che questo potrà incentivare i ragazzi e le famiglie magari a muoversi utilizzando il bus e non la macchina per questo nonostante la precisa esposizione nonostante la condivisione delle linee generali oggi del piano che ci è stato presentato non posso che essere contrario ma proprio solo esclusivamente riferito a questo unico fatto grazie grazie a lei 40 secondi ha chiesto la parola il consigliere Gaia prego grazie poi dopo sono entrato a far parte di questo consiglio comunale questi ultimi sei mesi quindi non ho partecipato a tutta la fase preparatoria di questo documento che ci viene portato questa sera alla nostra attenzione le serate scorse mentre leggevo questo corposo documento che ci è stato presentato con la memoria andavo ai tempi passati chiedo scusa pensavo al 2000 quando lei sindaco era vice sindaco della giunta guida Marco Elena il collega era assessore ai lavori pubblici io era assessore alla mobilità viaggio con Terno e Fogliato erano anche presenti in consiglio allora avevamo assessore sì sì certo allora avevamo approvato il PUT piano urbano del traffico il primo piano urbano del traffico piano urbano del traffico che è così parlando in generale aveva come unico obiettivo quello di spostare il traffico veicolare dal centro spostarlo in periferia spostarlo sulla tangenziale che era stata inaugurata da poco tempo perché allora notavamo che l'attraversamento di Bra nella via Vittorio era molto comodo e semplice la via Vittorio era l'unica strada in direzione Cuneo e Torino priva di semafori quindi era molto comodissimo attraversarlo quindi l'obiettivo allora era quello nello stesso periodo avevamo provato la conurbazione la prima conurbazione di Bra quella che è stata in vigore fino ad oggi quindi da allora ad oggi le cose sono molto cambiate Bra è diventata molto più bella molto più vivibile io ricordo allora parlando del piano urbano del traffico che timidamente si muovevano i primi passi verso la pedonalizzazione ricordo che la prima proposta era stata a pedonalizzare via Vittorio al sabato sera alle 6 dalle 18 in poi fino alla domenica sera non vi dico amici commercianti mi venivano a dire tu ci hai rovinato ho detto ma sabato sera alle 18 insomma alle 19 i negozi vengono chiusi però questo era il clima parlare di pedonalizzazione era difficilissimo era difficilissimo come dico Bra ha fatto grandi passi in avanti è più bella più vivibile ecco è attrattiva come ha detto l'ingegnere io ho sentito parlare di libro di sogni a me piace sognare forse diventando anziano divento un sognatore mi piace sognare una città più vivibile una città più bella e questo ho sentito anche parlare di piano ma se sono ancora in grado di leggere io leggo questa sera che ci viene portato all'approvazione un documento direttore obiettivi e linee di indirizzo quindi stiamo parlando di un documento direttore il piano mi sembra di aver capito che sarà una fase successiva quindi sarà una fase successiva che verrà portata all'attenzione poi del prossimo consiglio comunale quindi questo è quello che ho letto ho letto gli obiettivi mi sono sottarmato sui obiettivi un'ambilità sostenibile garantire sicurezza salute accessibilità informazioni per tutti ridurre l'inquinamento atmosferico acustico aumentare l'efficienza del trasporto di persone merci migliorare il passaggio urbano questi sono gli obiettivi quindi io prima pensando diciamo ma con degli obiettivi così mi auguro che questo documento direttore sia approvato all'unità chi di noi chi di noi non può auspicare negli obiettivi questi poi abbiamo visto cosa è già stato fatto in questi anni questo mi è sembrato la cosa principale quando si parla di sostenibilità mobilità sostenibile significa dare alle persone la possibilità di sportarsi in libertà comunicare stabilire relazioni senza mai perdere di vista l'aspetto umano e quello ambientale oggi come il futuro quindi questo è un piano che direi lascia un po' da parte il traffico e pensa alla persona cioè la persona è messa in primo piano noi stiamo pensando ai cittadini cioè questo trovo che è una cosa importante e meravigliosa abbiamo prima si parlava di ecologia è una cosa che interessa tutti anzi interessa tutti abbiamo figli nipoti quindi l'altro giorno la settimana scorsa aprendo la stampa c'era un inserto dieci cose da fare per salvare il pianeta terra e tra queste dieci al punto tre spostarsi sostenibilmente la mobilità sostenibile ecco il trasporto è un'importante sorgente di gassero e di inquinamento cioè questo è uno dei altri poi i rifiuti non rifiuti ecco tanto per parlare visto che è un tema che è stato trattato anche ecco quindi io dicevo l'obiettivo di questo di questo documento direttore è proprio quello no? quindi io questa sera come dicevo prima pur essendo entrato soltanto in questi ultimi sei mesi mi sento felice orgoglioso di far parte di questo consiglio che mi auguro possa approvare all'unanimità questo documento poi le amministrazioni future elaboreranno un piano il piano terrà conto di tante cose dei cambiamenti tutto sta cambiando in una maniera veramente notevole ecco mi ero appuntato ancora ecco una parte come raggiungere il modello di mobilità sostenibile ecco qui dice più alfabetizzazione informatica più tecnologie automobili commesse connesse sharing economy ma soprattutto entra insieme il comportamento di ognuno di noi una nuova curiosità una disponibilità personale a cambiare un po' le nostre abitudini ecco cos'è la mobilità sostenibile è un percorso in cui tutti i cittadini case automobilistiche amministrazioni pubbliche e politiche scelgono di condividere un nuovo modo di muoversi grazie grazie consigliere Gaia consigliere Amagiu prego grazie presidente penso che se una persona si svegliasse oggi dopo dieci anni di sonno sicuramente non riconoscerebbe la città non riconoscerebbe Bra per come si è cambiata in questi anni per come si è migliorata per come si è diventata molto più bella a partire sicuramente dai semafori in varie vie tolti via Vittorio riqualificata via Cavour via Pollenzo via Pimatti assolutamente diventata una città molto più vivibile molto più come dice anche l'ingegnere prima attrattiva è una città che ha fatto molto in questi anni quindi sarebbe non serio fare una dichiarazione simile mi piace molto una frase di Luigi Inaudi che diceva conoscere per vi liberare proprio perché questi anni un po' per le idee mie politiche sulla pedonalizzazione sulle auto nei centri avrei chiuso praticamente i centri senza pensarci però a volte bisogna conoscere quello che c'è sul territorio gli effetti che determinate decisioni possono avere sulla vita cittadina e quindi prima di deliberare bisogna conoscere proprio perché adesso il dato che ci viene dato circa centimila macchine auto che ogni giorno percorrono la nostra strada è un dato molto elevato è un dato molto alto che va affrontato e purtroppo il consigliere Marengo ha toccato forse il punto più caldo il punto su cui anche in passato ho dichiarato insomma la mia forte perplessità nel prevedere un plesso scolastico in un luogo dove già oggi è altamente presente un traffico molto congestionato e mi ricordo che c'è stata una commissione della viabilità nella quale avevo fatto notare che mancava il dato per quanto riguarda i giorni del mercato che non erano presenti nell'esposizione non so se ad oggi ci sono ancora oppure non ci siano l'ingegnere mi dice che non ci sono e secondo me proprio e soprattutto in questi due giorni dalla settimana oltre al carico di auto che comunque sarà quasi naturale aumenterà in quel tratto soprattutto nel mercato quando ci sono oltre alle automobili anche i piccoli commercianti ambulanti io immaginavo insomma che su questo pezzo si facesse una politica diversa si portasse via il traffico il più possibile fuori immaginare appunto una scuola fuori dal centro o meglio anzi non una scuola fuori dal centro ma questa poteva avere una doppia valenza immaginare una scuola con un'altra specializzazione sul mondo dello sport una scuola legata al mondo delle piscine al mondo dell'hockey del calcio una scuola che poteva avere un focus maggiore in confronto ad altri istituti perché la condizione lo spazio in cui si trova poteva permettere una specializzazione maggiore in determinate attività e se proprio non si poteva fare in questa maniera forse avrebbe avuto senso ma questa è una strada che non posso dire molto perché non ho percorso non ho fatto indagini non ho chiesto la provincia ma un'altra strada potrebbe essere quella della riqualificazione dell'ITIS che si trova in una strada pedonale nella quale avrebbe comunque obbligato le famiglie a non usare la macchina soprattutto nel tratto di via Vittorio ma tutto il resto è assolutamente comprensibile e condivisibile il lavoro che si è fatto è assolutamente ottimo sia nell'idea di coinvolgere insomma Mobiliter sia nella proposta che ci è stata fatta è stata positiva ma secondo me la questione scuola dalla stazione è un tema importante che avrà un effetto molto forte sul centro e sulla città in generale perché se fosse stata già una scuola superiore era comprensibile perché avrebbe avuto meno studenti che arrivano da fuori una scuola media e quindi arrivando da fuori potevano usare il treno una scuola media invece vedrà tanti genitori portare i figli davanti a scuola e già oggi è difficilissimo visto la salita visto via Barbacana visto che bisogna passare vicino già un'altra scuola che è intasata già di sé verso Mucci avere una strada che li porta comunque a attraversare la città che è quella insomma davanti alla stazione farà in modo secondo me di incentivare ancora di più i genitori a portare i ragazzi in macchina diciamo che la mia più grande perplessità era questa grazie grazie consigliere Maggiù ha chiesto la parola al consigliere Elena prego sì grazie presidente ma anch'io prima di tutto ringrazio l'ingegnero D'Alessandro per la disposizione e mi rallaccio un po' quanto ho sentito questa sera dai colleghi il piano il piano che ci è stato presentato negli obiettivi e chi non può condividere questi obiettivi ci mancherebbe sono tutti obiettivi propositivi tutti obiettivi che personalmente ma come gruppo condividiamo il discorso è emerso anche dalla discussione dei colleghi che mi hanno preceduto condivido in pieno totalmente quello del consigliere Marengo perché in effetti il piano ha degli obiettivi propositivi che io condivido su quanto si potrebbe progettare di programmazione però come è stato detto è anche già stato ribadito anche da consigliere a Mayu mi sembra che però partiamo male con il discorso della dispiace di noi poi ci ritorneremo di nuovo dopo perché c'è di nuovo la delibera sulle osservazioni che riguardano il discorso del presso scolastico in effetti quello che è stato detto è una verità perché purtroppo quel tratto di strada lo sappiamo quel punto del nodo della stazione mi spiace essere noioso noi l'abbiamo già detto ridetto in più occasioni è un nodo fondamentale per bra cioè io basta passarci farci in qualsiasi momento che uno ci passi che fai un po' di fotografie è sempre intesato vai per il passaggio a livello che quando è chiuso vai per l'annoso problema dell'attraversamento pedonale che blocca il traffico giustamente quindi c'è anche un discorso anche di sicurezza pedoni autoveicoli e quindi noi andiamo a incrementare il traffico su quella direttrice lì e appunto io apprezzo molto il lavoro che ha fatto il consigliere Ferrero sul discorso che ci ha spiegato proprio l'altro giorno che adesso partirà quello del trasporto pubblico locale però appunto anche lì molti molti di questi pullman convergeranno in quella zona lì quindi cioè parliamo di 30 minuti ogni 15 minuti cioè col traffico che ci sarà io voglio vedere se poi questi orari saranno poi rispettati se va avanti il progetto di un plesso scolastico che chiaramente porterà del traffico aggraverà anche la stessa società mobilita ha detto che ci sarà certificato un aumento ma chiaramente adesso se sia 15 10 18 però ci sarà un aumento sicuramente del traffico in quella zona e gli interventi che sono proposti dalla Rotonda su Piazza Giolitti l'arteria che va verso Taglia da via Gorizia che per lo tanto poi è sempre a finire lì e giriamo e arriviamo di nuovo via Trento Trieste non credo che possano limitare il discorso del traffico quindi penso di interpretare un po' il discorso del consigliere del collega Marengo che in effetti il piano nella sua composizione nei suoi obiettivi è pienamente condivisibile però partiamo subito con un discorso che va secondo me un po' in contrasto con le previsioni del Cums e quindi anche per questo motivo che la vedo un po' difficile perché secondo il nostro punto di vista probabilmente il discorso poteva essere fatto magari come avevamo già detto in precedenti occasioni di considerare valutare il discorso di magari spostare da un'altra parte in una zona più tra virgolette periferica perché poi non è poi che sia così periferica e magari di più facile raggiungibilità proprio anche grazie anche al trasporto locale che magari poteva dare un aiuto senza andare a intasare quella parte di Brac che purtroppo è inutile che ci nascondiamo dietro un dito è così il traffico di lì poi oltretutto ho sentito anche dire delle zone a traffico limitato io non sono contrario alle zone a traffico limitato anzi ho sentito dire ma si potrebbe anche poi valutare via Garibaldi qua davanti di chiudere tutto il traffico e poi il traffico è lì andiamo ancora a incrementare il traffico da qualche parte non è che le macchine possiamo nasconderle e in effetti ha ragione il consigliere Gaia mi ricordo i tempi quando insieme avevamo c'era il discorso del piano urbano del traffico il discorso principale era proprio quello di cercare di portare più all'esterno possibile il traffico con l'uso della tangenziale probabilmente è un lavoro che bisognerebbe ancora fare adesso è già molto in questi anni sviluppato molto usata però bisognerebbe cercare sempre di più di incentivare chiaramente specialmente il traffico tra virgolette chiamiamolo parassitario quello di attraversamento che non vada a incidere sul centro per mille motivi traffico inquinamento e tutti i problemi connessi quindi ripeto quello che è già stato detto da alcuni colleghi il piano io ringrazio gli studi gli uffici la società mobiliter chi c'è lavorato un lavorone sugli obiettivi posso anche essere d'accordo però quello che mi lascia molto perplesso è il discorso che purtroppo va a incidere e che non mi sembra che sia in linea con le linee scusate il gioco di parole di quanto prevede il piano andare a inserire un intervento di quel tipo in una zona così altamente critica dal punto di vista del traffico poi condivido in parte quello che ha detto il consigliere a mai giù sul discorso che se uno si sveglia è trovata una città più però non è che togliendo quattro semafori rifacendo via principe via vittorio io ricordo per l'ennesima volta ci sono anche le periferie ci sono le frazioni qualcosa è stato fatto ma molto c'è da fare non ripeto non riporto di nuovo le fotografie di certe strade in zone periferiche perché interventi non ne sono stati previsti ho parlato anche con l'assessore dei lavori pubblici mi ha detto ci sono delle priorità giustamente ha ragione priorità ci sono però devono anche fare i conti giustamente con i finanziamenti e quindi ognuno ha le sue priorità qualcuno sceglie di fare certi interventi non mi sto a ripetere come il discorso dei marciapiedi di strada orti inutile che ci ripetiamo uno può essere d'accordo noi non siamo d'accordo magari siamo d'accordo a fare altre cose mi è stato detto il bando era fatto per carità tutto condivisibile però ognuno ha la sua visione e quindi dal nostro punto di vista adesso valuterò ancora un attimo con il mio capogruppo sulla dichiarazione di voto però vedo abbastanza ci vede abbastanza contrari su questa delibera grazie grazie mi do la parola e faccio un intervento anch'io innanzitutto per prendere atto con grande gratitudine del lavoro svolto dall'assessore delegato alla mobilità sostenibile e poi a cascata della collaborazione che tutti i componenti della giunta e ovviamente ovviamente in primis il sindaco ma tutti gli altri assessori che hanno avuto delle competenze diciamole così parallele integrative per questo lavoro che come già stato detto bene non nasce ieri mattina ma partendo dalla direttiva europea del 2014 in Italia poi recepita dal decreto legislativo 257 del 2016 che prevedeva l'adozione con decreto del ministero delle linee guida per la redazione dei piani di mobilità sostenibile passando attraverso vari altri provvedimenti nazionali ed europei è arrivata sul nostro tavolo appunto questa sera è già stato bene detto bene è stato detto bene da chi mi ha preceduto che ha riassunto anche un po' la storia di questo ITER che prima si parlava di piani urbani e del traffico poi la legge 340 del 2000 prevedeva la nascita degli piani urbani di mobilità l'obiettivo era quello di ridurre i consumi energetici ridurre l'inquinamento acustico atmosferico aumentare la sicurezza dei trasporti della circolazione aumentare i sistemi di trasporti collettivi minimizzare l'uso individuale delle auto private negli ultimi anni a questi piani urbani di mobilità si è aggiunto l'aggettivo sostenibile e secondo me la chiave di volta di tutto il percorso è proprio qua cos'è la sostenibilità? la sostenibilità è la condizione di uno sviluppo che possa assicurare al tempo stesso il soddisfacimento dei bisogni di una generazione senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri e pertanto a maggior ragione secondo me siamo di fronte ad un cambiamento di prospettiva anche concettuale non possiamo dimenticare infatti che non si può solo più parlare di interventi ecologici o ambientali nel senso stretto della parola ma non possiamo perché non possiamo dimenticare le implicazioni economiche sociali oltre che ambientali di quello che è il nostro modo di muoverci nella città c'è stata infatti una profonda evoluzione si è passati da una visione che è stata centrata preminentemente su aspetti ecologici ad un altro tipo di approccio culturale approdando di fatto ad un significato più globale infatti la sostenibilità implica un benessere ecco perché sostenibilità ambientale sociale ed economica un benessere che sia preferibilmente costante ma anche preferibilmente crescente stiamo parlando di un documento direttore non dimentichiamocelo documento direttore che parte integrante del piano ma non è il piano e pertanto gli interventi anche di esponenti della minoranza che hanno manifestato perplessità o contrarietà rilevo che non vanno ad inficiare la bontà chiamiamola così dello strumento piano scusate dello strumento documento direttore che di fatto stasera ne esce anche abbastanza bene nel senso che qualcuno l'ha perfino definito libro dei sogni e appunto i sogni per definizione se non sono incubi sono anche belli e poi i sogni aiutano sono desideri come cantava Cenerentola però a parte gli scherzi torniamo a essere molto seri Bra non sarebbe stata tenuta per legge adottarsi di un piano per la mobilità sostenibile è molto importante invece meritorio strategico che lo abbia fatto e quindi va il mio applauso a questa giunta all'assessore Borrelli ai suoi colleghi di giunta perché di fatto sono uscite dalle logiche ristrette del rispetto esteriore della legge perché si poteva dire Bra non ha centomila abitanti andiamo avanti con i piani tradizionali hanno invece interpretato lo spirito della legge che è volto appunto a creare una cultura della mobilità urbana non dimentichiamoci non a brevissimo periodo ecco la differenza tra i piani urbani del traffico e i piani urbani di mobilità sostenibile questi ultimi hanno un periodo di diciamo così di valenza di riferimento cronologico che è medio lungo e non è invece né immediato né corto ecco perché il PUMS e quindi in modo particolare questa sera il documento direttore è frutto di una attenta indagine analisi del territorio sono state citate prima tutti i passaggi preliminari le interviste le ricerche ai cittadini a quelli che arrivano a Bra quelli che passano quelli che ci vivono quelli che vengono una volta all'anno eccetera è rivolto ai cittadini è rivolto alle aziende è rivolto alle associazioni di categoria agli enti l'iter è attivo dal 2015 ma come ha detto bene il consigliere Ferrero che tra l'altro ringrazio perché all'interno di questo piano e di questo documento il direttore ha fatto una parte veramente fondamentale che l'iter è attivo dal 2015 come linee di indirizzo e di programmazione politica dal 2016 era nato per trasformazione lo staff del servizio di trasporto pubblico locale nel 2018 è stato istituito il servizio di mobilità sostenibile dei trasporti andando anche a modificare in meglio la dotazione nell'organigramma comunale di persone che lavorano a tempo parziale e a tempo pieno su questo importante ufficio che fa capo al dirigente della ripartizione lavori pubblici questo per dire che non è che questa sera scopriamo che sono passati anni ma siamo al punto zero sono state fatte campagne cittadine che hanno coinvolto tra l'altro cito uno per tutti il consiglio comunale dei ragazzi che fin dal 2017 è stato condotto dal consigliere Cornaglia a discutere di questi temi le campagne già citate cambia marcia usa la testa i questionari di accesso ai bandi di finanziamento dei progetti pedibus sono state fatte riqualificazioni di aree centrali è stata estesa la ZTL sono state eliminate barriere architettoniche sono state riqualificate le aree mercatali sono state introdotte da poco due linee del TPL dal mese scorso è stato istituito un fondo unico trasporti per le scuole della conurbazione di BRA per coprire le spese del trasporto per i corsi di nuoto per i ragazzi è stata tra l'altro elettrificata la linea ferroviaria Alba-BRA sono state in parte previste in parte ampliate le piste ciclabili è stata dotata la città di nuovi parcheggi di prossimità copertura ferroviaria via Cuneo strada Orti è stata introdotta la gratuità delle soste auto elettriche ibride in programma c'è la differenziazione delle tariffe per la sosta più o meno lontana dal centro sono state realizzate le intersezioni virtuose degli orari pullman-treni quello di cui molto meglio di me ha descritto il consigliere Ferrero per dire il PUNS opera un passaggio fondamentale nel concetto stesso di pianificazione del traffico e della mobilità e non è soltanto un gioco di parole o un'etichetta dal trasporto alla mobilità sostenibile qui di mezzo c'è un concetto fondamentale cioè si supera come è stato scritto negli documenti allegati alla deribola a delibera si supera l'approccio ex post che vedeva inizialmente al centro il traffico come elemento quasi fatale su cui operare per passare poi a valutare le esigenze di spostamento delle persone e delle offerte di modalità di spostamento questo è il punto cioè si passa da un approccio che vedeva al centro il traffico a valutare le esigenze di spostamento delle persone sulla base delle offerte della modalità di spostamento sostenibile ciò che appunto i vecchi piani del traffico non contenevano i quali infatti cercavano di trovare soluzioni ai problemi di mobilità senza analizzare i bisogni reali di chi vive la città ecco qui torniamo appunto ai bisogni reali di chi vive la città il documento direttore è il primo diciamo così fondamentale tassello ma il piano come dice la parola è un piano sarà aggiornabile rivedibile corregibile ampliabile modificabile emendabile è un'opera in divenire no? e pertanto secondo noi secondo me secondo la maggioranza come è noto si tratta di un atto fondamentale per poter operare poi concretamente nel futuro i passaggi necessari proprio nella consapevolezza che è uno strumento a 360 gradi in cui sono coinvolti tutti gli tutti i cittadini sono coinvolte anche tutte le discipline le attività gli ambiti in cui il cittadino vive opera lavora dal bambino all'adulto all'anziano dall'agricoltore al commerciante all'artigiano all'industriale dallo studente delle scuole inferiori allo studente delle scuole superiori e così via quindi da parte mia come già stato anche ribadito da altri esponenti della maggioranza un grazie veramente sentito a chi ha reso possibile questo arduo lavoro senza dimenticare ovviamente oltre che la parte politica amministrativa anche la parte dei dirigenti ringrazio per tutti l'architetto Ciceri che in questi ultimi tempi ha gestito con i suoi uffici in modo veramente attento e preciso questo importante e non semplice compito grazie consigliere Marengo prego grazie presidente faccio riferimento alle sue parole riguardo al libro dei sogni io l'ho definito tale e ne sono assolutamente convinto ma proprio perché do a questo termine un'accezione assolutamente positiva in questo caso oggi noi abbiamo avuto una descrizione plastica di quello che si vorrebbe creare nella nostra città ma le do ragione anche su un'altra linea guida e cioè il fatto che effettivamente piace o meno il traffico è il totem dell'elaborazione del piano non possiamo esimerci dal non contemplare questo dato di fatto ma qui c'è una questione politica di rimente alla base io sono certo che se l'amministrazione a mobiliter avesse detto individuami la soluzione migliore avrà per costruire una scuola nuova un nuovo plesso scolastico sicuramente mobiliter tutto avrebbe scelto tranne che quel luogo quindi oggi noi non possiamo partire come un discorso legato al Pums senza contemplare questo fattore ha ragione il consigliere Elena quando dice nel momento in cui la scuola sarà costruita e sarà pienamente operativa immaginiamoci in certi orari di traffico come potranno essere rispettati gli orari dei pullman con la situazione che si troverà in via Trento e Trieste io credo che su questo noi dobbiamo ragionare noi non possiamo è certo che indivenire Presidente ma sarà indivenire purtroppo non nel medio lungo ma nel brevissimo termine nel momento in cui la scuola sarà realizzata perché queste problematiche esisteranno dai primissimi giorni e noi questo oggi non possiamo far finta di nulla non possiamo dire accettiamo un piano come il Pums non però tenendo conto di questa situazione a meno per quanto mi riguarda io questo non lo posso fare occorre contemplare l'opera a 360 gradi non soltanto nella parte che può interessare o meno ripeto quello che io ho letto nel documento di Mobiliter e quello che ho sentito stasera è totalmente condivisibile chi di noi indipendentemente dal partito dalla formazione politica a cui appartiene non vorrebbe una mobilità sostenibile è in dubbio lo vorremmo tutti la differenza sta nel come realizzare questa mobilità sostenibile noi crediamo come centro-destra che l'edificazione del plesso scolastico nel luogo che è stato indicato dall'amministrazione sia l'esatto contrario di quello che serve a questa città noi non abbiamo bisogno di una scuola in quel luogo ma per le motivazioni che ho detto prima che abbiamo ripetuto noi consiglieri di centro-destra il traffico sarebbe aumentato a dismisura enormemente andando a vanificare proprio quella che è la filosofia concettuale del PUNS e cioè rendiamo questa città più sostenibile con una mobilità diversa noi oggi votando questo documento semplicemente andiamo nella direzione opposta a quello che ci si prefigge non possiamo far finta che questa discussione non rientri nel piano non possiamo separare le due cose cioè è lì è totemico il traffico l'ho detto prima e lo ribadisco piaccia o meno vorremmo tutti vivere in una città come accade in nord Europa dove la bicicletta è molto più utilizzata dove i mezzi pubblici sono molto più utilizzati dove si va molto di più a piedi leggevo poco tempo fa forse l'ingegnere mi potrà confermare questo fatto in Germania addirittura si pensano le autostrade per le biciclette cioè a fianco dell'autostrada per i veicoli si costruiranno autostrade esclusivamente dedicate alle biciclette sarà difficile realizzarlo a Roma vista la sua conurbazione però questo è un pensiero che va oltre che aiuta a non utilizzare l'auto e invita il cittadino a utilizzare un mezzo alternativo come può essere la bicicletta teniamo presente questo quando noi decidiamo oggi di votare questo documento noi oggi purtroppo non proponiamo un'alternativa al cittadino perché se è vero come è vero che aumenteranno le corse dei bus urbani che si andrà incontro a determinate esigenze teniamo anche presente che queste corse saranno purtroppo delimitate dagli orari di apertura e chiusura del passaggio livello e dall'apertura e chiusura della scuola e che quindi inevitabilmente i tram i tram chiedo scusa i bus saranno bloccati nel traffico quindi salteranno tutti quelli che sono gli orari a mio giudizio perché non è possibile pensarlo diversamente sulla tratta nord-sud e questo vanifica la filosofia di base cioè di rendere più fluibile il traffico e quindi di rendere la città più sostenibile in tutti i sensi perché se noi diamo un senso a questo ragionamento e quindi rendiamo il traffico veicolare più sostenibile ne fruiranno tutti pedoni ciclisti motociclisti chiedo scusa posso fare la dichiarazione di voto come vuole se posso farla adesso poi così non parlo più dopo se posso presidente detto questo è ovvio che non possiamo essere contrari non possiamo condividere un piano come questo in toto ma non perché sbagliato ripeto a costo di essere noioso concettualmente lo si condivide non possiamo non farlo ma non possiamo condividere in toto un piano che invece prevede al suo interno la costruzione della scuola e per le motivazioni che abbiamo sostenuto io il collega Elena in questa fase non possiamo aderire e ci dispiace credete non è a cuor leggero che prendiamo questa decisione ma non saremmo fedeli a noi stessi se votassimo questo provvedimento nel momento in cui in tutte le occasioni in tutte le commissioni e nel precedente consiglio comunale in cui abbiamo parlato e votato la prima variante al piano regolatore abbiamo sostenuto delle motivazioni che abbiamo ripetuto questa sera e che sono la base del nostro intendere la città da decenni indipendentemente dalla forza politica si parla di decentrare le scuole di non convergere sul centro per non far sì che le auto e i mezzi pubblici possano andare a ingolfare il centro perché questo succederà lo vediamo già oggi e non è ancora stata costruita passiamo tutti dalla stazione dal passaggio di velo ma veramente io vi invito in certi orari soprattutto la sera o soprattutto intorno alle 13.30 quando escono i ragazzi dalle scuole guardate le colonne chilometriche e dico veramente chilometriche perché se guardate dalla parte dei giardini girate la vostra destra e guardate verso piazza giolitti la coda arriva fino laggiù immaginate la situazione con una scuola immaginate con 420 ragazzi che vanno a scuola lì non tutti andranno in macchina benissimo i genitori non andranno tutti a prenderli benissimo ma vogliamo dire una metà perché ritrovo veramente difficile credere che un aumento del 20% sia un dato non empirico è una supposizione è una supposizione quindi per queste ragioni per quanto mi riguarda per quanto riguarda il mio gruppo il mio voto non potrei che essere negativo grazie grazie quindi abbiamo già raccolto una dichiarazione di voto ha chiesto la parola al consigliere Milazzo prego grazie presidente solo delle piccole riflessioni perché già molto è stato detto la prima è che mi sembra che tornare sulla centralità del documento sul quale comunque di per sé mi sembra che siamo tutti d'accordo maggioranza e minoranza il problema sembrerebbe poi l'applicazione poi le modalità con cui l'amministrazione agisce per poter attuare questo piano in modo particolare mi sembra che si stia focalizzando la discussione sull'individuazione dell'area per la costruzione della nuova scuola media allora una cosa che non ho sentito però mi sembra non so se ho sognato qualcuno eventualmente me lo spieghi che comunque la viabilità attorno alla costruzione della scuola media quindi sarà modificata e se ricordo bene addirittura si era parlato di una corsia preferenziale con fino alla rotonda per i bus quindi davanti al movicentro e poi anche fino all'attuale rotonda circa e io penso che non so se è una mia invenzione ma penso che questo possa aiutare molto nel traffico e poi vorrei chiedere anche perché non lo ricordo bene forse non ero ancora in consiglio comunale quando era stata c'ero durante la variante ovviamente ma non prima quando era stato comunque redatto il piano regolatore che cosa ha previsto prima della variante in quella stessa zona se ricordo bene la costruzione di palazzi e quei palazzi secondo voi non sono non avrebbero portato più di 420 persone ad abitare in loco che sono il numero degli studenti della scuola media e no io ricordo benissimo allora e anche in quel caso libero non erano state neanche previste delle modifiche sulla viabilità cosa che invece sulla scuola media con la presenza della scuola media sono state previste dal parcheggio alla linea preferenziale per i bus al fatto di un certo modalità di marcia per chi accompagna i ragazzi a scuola e comunque nel cercare di modificare le nostre cattive abitudini che sono quelle di andare in primis per me stessa parlo che è quello di appunto di usare troppo un'automobile e allora a proposito di questo vorrei ricordare che così invitarvi ad ascoltarlo anche o trovare quel documento che la RAI ha proposto in tardissima serata dopo la mezzanotte su Costa Rica è un servizio molto interessante sul fatto sull'utilizzo delle energie alternative e sul fatto che adesso si stiano anche muovendo su un modello di energie da utilizzare anche per la viabilità per quanto riguarda il trasporto e non solo quello urbano ma quello addirittura di questo piccolo stato totale e dà delle diciamo che si può dare dei modelli di riflessione che potrebbero anche servire a noi come amministrazione io l'ho visto e penso che ci tornerò ancora sopra perché vorrei capirne di più di queste tipologie di modelli però non dimentichiamo che la scuola il numero di persone che porterà all'interno della scuola sicuramente non è superiore al numero di abitanti previsti nel vecchio prima della variante nel vecchio io dico vecchio per dire dal precedente la precedente parte di piano regolatore provate non so qualcuno mi smentisca non erano previsti costruzioni di palazzi lì? non erano e certo e appunto erano previsti comunque quindi questa era imprevista la costruzione di palazzi ed era e delle perovie dello Stato volendo potevano se non avessero concesso a queste amministrazioni da acquisire in questo modo anche molto diciamo così in una cifra oltretutto molto inferiore rispetto a quanto avrebbero potuto realizzare avremmo avuto ugualmente le modalità del traffico le avremmo avuto ugualmente perché comunque le famiglie si spostano in auto allora il problema è quel allora il problema è quel come nello stesso tempo scusate cortesia sta parlando il consigliere Milazzo ciascuno scusi consigliere un attimo chi vuole parlare se ha già finito i suoi interventi non può più parlare altrimenti chiede la parola prego finisca l'intervento perché mi ha ricordato mi ha ricordato un'altra cosa che effettivamente mi stavo dimenticando prima è stato anche detto che nello stesso tempo dovrebbero anche dimentichiamo il mercoledì e il venerdì il traffico anche del mercato proprio per i non tanto per la cittadinanza sono stati nominati i commercianti allora ricordo che alle sette e mezza del mattino cioè quando ci postano le scuole i ragazzi con le scuole i commercianti sono già le bancarelle dietro le bancarelle quindi almeno questa piccola parte di traffico sicuramente non cade nello stesso non coincide come orario ecco mi è venuto in mente questo cos'altro dire cerchiamo di vederne gli aspetti positivi gli aspetti positivi saranno quello che noi saremo tenuti a incentivare tutti i nostri concittadini a muoversi a piedi dovremmo utilizzare delle innescare dei sistemi pensiamo in qualche modalità come attrarre i ragazzi per poter attrarli ad una mobilità sostenibile diversa da quella che non sia l'accompagnamento dei genitori con i bus io è vero ci sono sempre stati dei genitori che avevano portato i figli davanti alla scuola io i miei non li ho mai portati da invescorona andavano sempre a piedi alla media numero 3 sono sempre andati loro si alzavano un po' prima e gli ha fatto molto bene alla salute a loro e io partivo prima di loro perché dovevo andare al lavoro quindi ci sono molti modi per disincentivare o per lo meno per convincere più che disincentivare non parliamo il negativo come suggerito questa sera in un'altra occasione un collega consigliere parliamo il positivo aiutiamo i nostri concittadini a riflettere sulla mobilità grazie grazie consigliere somaglia grazie presidente intervengo certamente per la dichiarazione di voto del nostro gruppo ma dopo aver ascoltato attentamente alcuni interventi vorrei fare alcune alcune considerazioni allora parto dal fatto del documento direttorio corretto l'hanno detto sia il consigliere Elena che il consigliere Marengo la base l'idea che spinge il documento direttorio può essere condivisibile ma se poi andiamo a parlare di mobilità sostenibile dobbiamo far sì che la mobilità sostenibile o tutto quello o il progetto che ci sta dietro ci porti anche a risolvere alcuni problemi che invece probabilmente saranno aggravati e mi riferisco in particolare alla soluzione del congestionamento del traffico davanti alla zona della stazione ferroviaria oggi l'hanno detto in tanti questa sera il traffico in quella zona è più che caotico in certi momenti della giornata le code vanno fino a piazza Giolitti l'altro l'altro problema che deve essere affrontato e che comunque è conseguente è quello della divisione della città con il passaggio livello e allora qui torniamo su sull'argomento che più volte abbiamo affrontato in questo consiglio che è quello del della soluzione tramite l'interramento dei binari progetto stasera abbiamo parlato più volte di libro dei sogni un altro sogno io sono uno di quelli che dice che i sogni sono molto belli ma a volte devono trasformarsi in realtà se questo non avviene rimangono i sogni e rimangono delle illusioni il consigliere ferrero di cui apprezzo il lavoro e la puntualità degli argomenti che va a trattare ci ha parlato di un riordino del trasporto pubblico però e qua mi viene da sorridere ha anche definito ha anche definito la situazione attuale o meglio quella che si è protratta negli ultimi dieci anni un gran guazzabuglio allora siccome questa amministrazione è in carica da dieci anni mi viene da pensare che questa amministrazione ha gestito un gran guazzabuglio e che per fortuna magari si è resa conto oggi alle porte di una campagna elettorale che occorre un riordino a questo gran guazzabuglio è già stato detto da più parti che uno dei problemi centrali che contribuirà probabilmente ad aggravare la situazione del traffico è quello della localizzazione dell'eventuale nuova scuola nel tratto di via Trento Trieste allora è uscito fuori più volte questa sera ma anche nella discussione nei precedenti consigli comunali che eh beh sì si fa una scuola ma la possibilità in quell'area era di costruire dei palazzi allora mi risulta che la variante al piano del regolatore del 2014 quindi di questa amministrazione quindi o ci siamo vi siete sbagliati prima oggi i palazzi diventano eh brutti e cattivi io sono d'accordo che in quell'area lì non vanno bene nei palazzi tanto meno la scuola e allora più volte soprattutto nelle commissioni competenti eh il consigliere Elena il consigliere Malengo sottoscritto hanno proposto ad esempio che visto che le ferrovie dello Stato sono disponibili la cessione di quest'area visto che lo sono disponibili per farci un grande piacere anche dei prezzi decisamente interessanti ebbene compriamolo facciamo un parcheggio facciamo delle aree verdi creiamo un polmone verde in quell'area c'è carenza di parcheggi facciamoli lì la scuola possiamo farla benissimo da un'altra parte e la costruzione di parcheggi le aree verdi contribuebbero contribuiranno a una mobilità sostenibile un'effluzione maggiore di alcuni spazi che oggi sono assolutamente inutilizzati inutilizzabili la terza corsia è una mi risulta che sia una corsia di sosta per i mezzi pubblici quindi non so cosa potrà contribuire al transito più fluido di quella zona allora su tutte le considerazioni che sono state fatte dai consiglieri Marengo dal consigliere Elina e quello che ho cercato di aggiungere il voto del nostro gruppo non può che essere un voto contrario alla delibera che questa sera viene posta in votazione grazie ha chiesto la parola al sindaco prego una questione molto specifica ed è la questione relativa all'edificabilità all'interno dell'area edificabilità che il piano regolatore è vero che è stato approvato nel 2014 ma la variante che ha fatto propria questo accordo tra il comune e RFI è del 2007 nella variante del 2007 sono stati inseriti in base ad accordi presi nel momento in cui vennero costruiti il bene costruito il movicentro eccetera e quindi le questioni vanno dette consigliere Somalia nella sua correttezza nel senso che all'interno del piano il piano regolatore non ha fatto altro che assumere una variante che era inserita e un accordo che era inserito all'interno e che faceva parte di un di una deliberazione del 2007 quindi la e questo e questa variante del 2007 fa riferimento all'accordo per la costruzione del movicentro nel quale il comune di Brano disponendo di fondi mise come parte per poter intervenire nella questo leggo c'era anche lei nella giunta in cui si decisero si decisero la costruzione del movicentro e si la decisione del movicentro era presente era nel 2002 nel 2002 nel 2002 lei e il consigliere Gaia trattasse la questione della volumetria compensativa con RFI per la questione relativa al movicentro sulla base di questo nel 2007 facendo la variante solo perché le questioni siano molto chiare nel 2007 si prese atto dell'accordo raggiunto dall'amministrazione potempore con RFI e lì venne inserito un accordo un accordo fatto non è che possa essere stracciato dal piano regolatore nel senso che non è che nel piano regolatore tu puoi dire va bene c'è un accordo fatto tant'è che è stato inserito ed è stato portato nel piano regolatore tra l'altro avendo RFI venduto un terzo della della superficie per quel terzo la volumetria non venne passata nel piano regolatore piano regolatore che peraltro approvamo all'unanimità questa cosa solo per una questione di correttezza devo dire che la scelta di aver lavorato in questi dieci anni con una coerenza che ci ha portato nel momento in cui c'era la questione della normativa alla individuazione di una delega specifica alla mobilità sostenibile è però una scelta che ha fatto sì che i vari interventi che sono stati realizzati di riqualificazione eccetera Ab ha detto come questa città sia cambiata non tocca a me dirlo tocca ai cittadini e a coloro che valuteranno l'esito di questi dieci anni questa città in questi dieci anni è stata cambiata ma è stata cambiata con una logica di tenere presente un collegamento tra i vari aspetti tra l'aspetto del trasporto pubblico locale l'aspetto del trasporto ferroviario l'aspetto del potenziamento del pedibus l'aspetto della questione delle piste ciclabili una delle quali è in via di attuazione e di realizzazione che permetterà di collegare bandito alla pista ciclabile più importante che va verso il cimitero quindi credo che ci siano una serie di elementi che sono stati tra l'altro concentrati in una delega data ad una persona nella fattispecie vice sindaco Borrelli che si è avvalso nel lavoro di una del lavoro di quasi tutta la giunta e che soprattutto ha visto la formazione di un gruppo tecnico che ha supportato questa iniziativa credo che da questo punto di vista gli interventi che sono stati fatti dall'eliminazione di praticamente tutti i semafori ne restano tre semafori sui tredici che avevamo all'inizio del mandato alle questioni relative ai vari aspetti che ha messo in evidenza prima il presidente consigliere Conterno sono elementi che credo qualificano questo punto che portiamo e che deve essere valutato nell'ambito del che cosa noi questa sera votiamo noi questa sera approviamo il documento direttore con gli obiettivi e le linee di indirizzo la cosa importante è che in questi anni non abbiamo mai agito in maniera spot ma avendo un obiettivo a cui lavorare e a cui lavorare nei prossimi dieci anni l'amministrazione che si troverà a lavorarci se lo ritiene l'idea è che tutto quello che si costruiva che si i vari tasselli che facevano parte della di questo elemento erano tasselli tra loro coordinati ovviamente un ringraziamento specifico all'assessore e al dirigente e all'assessore e quindi a tutti coloro che con lui hanno collaborato e al dirigente e ai tecnici che con lui hanno collaborato grazie sindaco consigliere Amajou poi consigliere Ferrero no no ha chiesto prima mettete allora consigliere Ferrero prego no solo per una ulteriore specificazione a quanto ha detto il sindaco perché le cose qui credo che questa sia l'ultima occasione di parlare di questa partita nell'attuale composizione consigliare probabilmente chi verrà dopo chiunque sia chiunque sia probabilmente non avrà quantomeno non ha partecipato a questo dibattito su questo argomento che dura da anni quando il sindaco ha dato un po' di date smettendo quello che ha detto il consigliere Somalia ha dimenticato soltanto un aggettivo il 2007 si chiamava variante anticipatrice anticipava dettava nel 2007 cose si sarebbe dovuto fare quando sarebbe avvenuta la revisione generale del piano che è cominciato poi dal 2008 c'era ancora la precedente amministrazione e ha lavorato fino al 2014 ma su quel punto era già deliberato che cosa doveva fare il piano perché si chiamava variante anticipatrice punto quindi non è vero che questa roba sia avvenuta nel 2014 il piano non poteva non recepire quello che era scritto in una variante anticipatrice cosa vuol dire vuol dire questo che la variante anticipatrice aveva dato esattamente quello l'accordo quell'accordo dal quale nasceva la variante anticipatrice è stato fatto nel 2002 fatele voi tutti i passaggi le amministrazioni che c'erano non voglio andare in polemica però per cortesia siccome ci cavalcate da un bel po' su sta cosa credo ci cavalcherete ancora di più ad ognuno le proprie responsabilità ad ognuno le proprie responsabilità quindi il 2002 2007 se poi se poi l'ho fatta sorridere e mi dispiace di averlo fatto sorridere così l'aver detto guazzabuglio le spiego anche che cosa è il guazzabuglio allora questa amministrazione è entrata in funzione nel 2010 ottuno 2009 2010 allora il problema impellente era quello di far sì che la servizio ferroviaria del metropolitano non si fermasse sommariva a Carmagnola come previsto ci abbiamo lavorato tre anni il treno metropolitano è venuto ora questo è l'impegno di quegli anni lei mi dice perché non l'avete fatto prima eliminare il guazzabuglio allora guazzabuglio è peggiorato con l'avvento aspetta aspetta ancora una minuita aspetta ancora una minuita a proposito di minute una minuita non ne mancano due due finisco 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 per eliminare quella roba che non funzionava ci volevano dei finanziamenti ancora ricordo che cosa è successo dal 2011 12 al 14 quale amministrazione c'era in regione chi è che ha fatto taglio per tagli per tre anni consecutivi il nostro servizio TPL è diminuito del 35% per favore le medaglie al proprio posto quindi non venga qui a farlo a sorridere per la parola guazzabuglio questo è lo Stato lei sorrida quanto vuole sorrida quanto vuole ma non sorride su una parola di un altro perché altrimenti questo è un'altra cosa poi nel 2014 quando è stato fatto quando è finito per fortuna quella giunta cota che ha fatto tutti quei tagli è cominciato e ci abbiamo lavorato quattro anni per poter arrivare ad oggi con un aumento di finanziamenti che è raddoppiato ecco se lei questo la fa sorridere io mi auguro che se per caso ci saranno altri che facciano le stesse cose che portino in quegli anni un raddoppio degli stanziamenti su un servizio che era stato ridotto nello Stato in cui era ridotto grazie grazie il consigliere Ferrero c'era il consigliere Amagiu poi c'è il consigliere Somalia prego consigliere Amagiu grazie presidente non capisco come faccia il sindaco a ricordarsi i 20 del 2007 mi sono dimenticato io di cose che ho fatto l'anno scorso assolutamente ed è per questo motivo assolutamente questo vuole essere un complimento è per questo motivo che in questi anni ho sempre fatto molta attenzione a quello che ho votato perché entra nella storia della città quindi le tue decisioni sono importanti e rimangono per sempre però volevo leggere un articolo che è uscito giusto ieri molto bello e che tocca proprio questo tema e quante volte insomma tutti noi abbiamo assistito all'assedio delle auto dei genitori davanti alle scuole e sono talmente tante che ormai ci siamo a suoi fatti in Italia che è il paese più motorizzato d'Europa con 38 milioni di auto quasi una per ogni maggioreenne succedono anche questi paradossi infatti oggi giorni le scuole sono assediate da auto parcheggiate con circolazione doppia fila fin sopra i marciapiedi con il motore acceso e nessuno fiata anzi qualche volta ho dovuto fiattare portando il mio figlio alla scuola materna ho dovuto litigare con dei genitori che nell'ingresso dalla scuola materna la macchina è accesa e vanno a posare i loro figli oggi tutti i giorni succede negli altri paesi vi sono le school streets strade pedonalizzate davanti alle scuole che sono una normalità in tanti paesi del nord Europa dalla Francia Germania Danimarca Gran Bretagna e dalla Scozia in questi paesi nessuno si sogna di arrivare in auto davanti alla scuola i bambini ci arrivano per lo più autonomamente in bici in piedi in monopattino o mezzi pubblici tra l'altro mi hanno rubato la bici davanti alla stazione la settimana scorsa le aree di rispetto sono istituite anche per motivi di sicurezza e antiterrorismo e secondo l'UNICEF i bambini hanno il diritto a camminare a pedalare in sicurezza e a respirare aria pulita per questo in questi giorni è partita da poco una petizione per chiedere che le scuole abbiano tutti una zona franca davanti inserita nel codice della strada nel comitato che chiede questa applicazione del codice della strada ci sono associazioni ambientaliste come la FIA le gambiente salva i ciclisti ma anche associazioni di genitori soprattutto dei pediatri associazioni dei pediatri che da tempo si sono schierati a favore delle aree pezionali davanti alle scuole i livelli di autonomia e degli spostamenti quotidiani dei bambini italiani sono tra i più bassi a livello internazionale in particolare quelli che vanno abitualmente a scuola da soli sono solo il 7% rispetto al 23% degli inglesi e al 47% dei tedeschi i bambini hanno un naturale bisogno di incrementare i propri margini di autonomia e se non viene soddisfatto nei tempi giusti ciò influisce negativamente sullo sviluppo della capacità di orientamento e di socializzazione e sulla costruzione della fiducia nelle proprie capacità meglio soli che sempre accompagnati direbbero aria di rispetto davanti alle scuole e parcheggi lontani sono fondamentali per incentivare la mobilità attiva e migliorare la salute dei ragazzi in Italia circa il 40% dei bambini è obeso o sovrappeso la più alta percentuale anche in questo caso di Europa dopo Cipro e nel febbraio 2018 Greenpeace registra concentrazione di biossidi di azoto all'istopera della soglia stabilita dell'OMO-S davanti a tante scuole italiane i bambini respirano biossidi di azoto polveri sottili e altri inquinanti provocati dal gas di scarico delle auto ma anche dall'attrito delle ruote dell'asfalto e questo aumenta la probabilità di asma problemi respiratori disturbi cognitivi e altre malattie questo per dire assolutamente che ribadire nuovamente che prevedere da una parte una scuola vicino alla stazione in cui il contratto è negativa dall'altro che già oggi si può partire con campagne in questo caso assolutamente di sanzioni per tutti quei genitori che lasciano la macchina accesa davanti alle scuole materne e davanti alle scuole elementari già oggi ci sono le normative però servono davvero i controlli i controlli sensibilizzazioni fatti con gli insegnanti con le scuole cancelli che vengono tratteggiati di rosso dove c'è di vieto di parcheggiare vicino perché a volte davvero la macchina le macchine coprono il cancello ma allo stesso momento sono accese e non puoi litigare tutti i giorni a volte a volte penso basterebbe un mese un mese intenso in cui le forze dell'ordine multano le famiglie multano i genitori che in realtà non vogliono bene i loro figli facendo così anzi 5 minuti faccio anche la dichiarazione di voto ma la faccio subito non voglio dilungarvi più di tanto il lavoro che è stato fatto è stato assolutamente importante deve essere fatto di più a mio avviso sul punto della scuola naturalmente la battaglia insomma la farò fuori da da questo piano e quindi fuori dal direttorio e quindi la mia posizione sulla scuola è molto chiara ed è difficile perché cambi idea però visto il lavoro fatto finora non voterò neanche il contrario al documento direttorio e vedremo insomma poi anzi non vedremo niente perché finisce la legislatura meno per me quindi mi asterrò grazie grazie consigliere Amagiù aver chiesto la parola del consigliere Sommaglia prego sarò rapidissimo però qualche chiarimento occorre farlo siccome non è mia abitudine né sorridere né ridere quando parlano gli altri io ho solo citato le parole e le ho scritte per citarle correttamente del consigliere Ferrero che ha testualmente detto non come oggi un guazzabuglio non l'ho detto io che la situazione è un guazzabuglio ma è stato mi sono limitato a dire che quindi avete gestito nei dieci anni un guazzabuglio se i meriti devono essere dati mi pare che noi quando ci sono stati dei meriti da attribuire li abbiamo attribuiti bisogna anche attribuire i meriti agli altri l'impostazione del progetto della metropolitana leggera è partito con la giunta scimone quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare per quanto riguarda invece il discorso della variante è anche è altrettanto vero che ad esempio la variante che è stata proposta due mesi fa per la possibilità di realizzare un istituto scolastico che noi non abbiamo votato l'avremmo votata se l'obiettivo fosse stato quello della realizzazione di un parcheggio di un'area verde come abbiamo detto allora e come ribadiamo adesso e in più mi chiedo che se proprio era così fastidioso e secondo me lo poteva essere la realizzazione dei palazzi anche quando c'è stata la convenzione per il movicentro non era possibile trattare con le ferrovie una variante in quel senso lì ribasisco ovviamente il voto contrario del mio gruppo grazie al consigliere Somalia allora dichiarazione di voto ne abbiamo già raggiunte alcune raccolte alcune consigliere Tripodi prego grazie presidente ho ascoltato con interesse i vari interventi di chi mi ha preceduto ma mi è piaciuto l'intervento del consiglier Gaia dove ha fatto un esempio se chiudo gli occhi li riapro bra è più bella certo se chiudi gli occhi per dieci anni se non fosse stata più bella in qualche maniera o se non ci fosse fatta qualche cosa per far sì che comunque ci fossero dei miglioramenti ci sarebbero stati seriamente dei problemi perché la cosa la cosa fondamentale la cosa fondamentale che mi piace ed è giusto sottolineare il fatto che ci ritroviamo qui questa sera ha dopo cinque anni cinque anni sono passati cinque anni da quando ho letto prima notizia comune di Bra parlavamo di Pums e dopo cinque anni siamo arrivati perché atti un documento ad approvare il documento direttore cioè quel documento e come diceva bene il sindaco avrebbe dovuto coordinare tutte le azioni fatte dall'amministrazione ma è un po' lo stile italiano faccio la scuola lì ah ma poi magari ci penso che magari gli serva la strada magari serve il servizio del bus ma devo costruire magari prevedo una zona nuova ed edificare ah ma magari non ci penso che lì magari devo mettere anche lì i servizi e quant'altro ma io in contanto la costruisco stile tutto italiano questo qui ma per ricordi logica ma penso che se andassi anche da dei miei nipotini mi direbbero la stessa cosa questa qui è un qualcosa che avrebbe dovuto precedere qualsiasi altro intervento colleghi io sono assolutamente d'accordo su questo documento chi potrebbe non essere d'accordo con questo documento gli obiettivi sono i più nobili e i più giusti che ci possono essere ma qui non si fa fantapolitica si tratta di costruire e progettare una visione della città noi cosa abbiamo fatto abbiamo cominciato a costruire così a destra e a sinistra a fare delle opere che potevano funzionare e poi abbiamo pensato adesso facciamo il piano e riraccontiamo nuovamente che noi siamo per la mobilità sostenibile e quant'altro e semplicemente diciamo in successione noi siamo partiti a fare e poi cominciamo a coordinare nessuno vuol mettere in dubbio il lavoro svolto dal consigliere Ferrero che veramente nella sua esposizione è sempre molto puntuale spero che lo siano puntuali anche i bus che dovranno passare nella direzione nord-sud puntuale come spiega il collega Ferrero quando verrà costruita lì la scuola qui semplicemente si sta facendo un qualcosa che non si parla perché quasi è diventata qualcosa di sottobosco qualcosa nascosto esiste una divisione della città c'è la divisione della città c'è una parte A e una parte B di quello non se ne parla più allora si dice dobbiamo incentivare l'utilizzo della tangenziale e da quando è costruita quella tangenziale io forse ero anche appena nato perché le uscite della tangenziale sono buia pericolose come lo sempre sono state cambiato nulla cambiato nulla quindi io dico questo documento qui è un documento perfetto io non posso fare altro che complimentarmi anche con colori quali hanno stilato ma comprendete bene che dalla nostra posizione abbiamo semplicemente un'ottica diversa di vedere le cose si parte si fa tutto quello che si deve fare per progettare e coordinare veramente gli interventi e da lì si prepara una città con una visione con un'ottica e con una continuità qui in questo senso è vero si potrà riprendere questo piano si potrà riprendere questo piano si potrà modificare si potrà emendare ma la cosa che mi veramente mi fa rimanere ogni tanto così è che come ho detto prima per questa amministrazione sembra che il tempo non sia mai passato o che comunque il tempo non passi mai e che comunque tutti gli interventi che siano stati fatti purtroppo per fortuna non lo so comunque se siamo arrivati ad oggi a stilare il documento che semplicemente la linea direttiva la guida la direttrice di quelli che sono gli obiettivi in che senso le abbiamo fatti gli interventi prima è questo che io non riesco a capire quindi è io vado contro al metodo va anche contro l'orologio 6 minuti e 30 per quanto pazienza però per me il tempo esiste io grazie lascio quella dichiarazione di voto al consigliere Panero grazie grazie consigliere Panero prego grazie presidente ho un pleto l'intervento del collega Davide perché doveva finire con l'espressione di voto ma non gli mancano mai le parole ma gli è mancato il tempo allora molto rapidamente non possiamo come gruppo non essere favorevole quelle che sono le linee guida di questo di questo piano e le voglio ribadire l'istruzione della segretaria tecnica del Pums procedere processo di comunicazione e partecipazione dei cittadini nelle scelte della mobilità urbana abbiamo sentito il consiglio comunale dei ragazzi ci sono anche altri modi tanti altri modi e sicuramente è giusto quando si dice bisogna partire da piccoli ma mobilità sostenibile auto bici e quindi anche automobilisti i ragazzi del consiglio del consiglio comunale dei ragazzi non guidano ancora quindi probabilmente era meglio fare anche qualche altra attività di partecipazione ricolificazione ambientale dell'aria urbana centrale delle zone residenziali centrale aggiungerei anche periferie frazioni perché si parla sempre solo di centro potenziamento del servizio di trasporto pubblico questo invece concordo in pieno e devo anch'io spendere parole per il consigliere di maggioranza Ferrero che in questi anni è stato molto puntuale in tutte le commissioni a spiegarci le modifiche le difficoltà nel cercare di avere avere questo trasporto pubblico che funzioni ci sarà un anno di prova l'anno di prova servirà veramente a togliere quella che è la preoccupazione di tutti i cittadini che ci incontrano adesso e ci dicono che questi mezzi urbani girano ma girano vuoti quindi come abbiamo detto si è provato a dare il servizio senza la domanda per vedere se anche in orari ampliati per vedere se si riesce a riempire questi mezzi pubblici estensione della rete delle piste ciclabili qui si sfonda una porta aperta come lo si sa l'estensione delle piste ciclabili certamente anche il mantenimento di quelle che ci sono in condizioni da poter essere usufruite da poter essere utilizzate in collegamento in sicurezza miglioramento della circolazione viaria e della sicurezza stradale revisione della politica della sosta riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti potremmo star qui a parlare delle ore ma penso che nessuno possa dire di non condividere quelle che sono queste linee guida tutto questo per migliorare quella che è la qualità della vita nella nostra città che penso che sia l'obiettivo di tutti quello che riteniamo possa non essere non debba essere un vanto il fatto che arrivate a fine di anni e anni di amministrazione arrivare qua a dire ma no tranquilli questo qua non è il piano sono solo le linee il piano si deve ancora fare non credo che sia una questione di vanto questa con tutte le difficoltà del caso arrivare a dirci no ma deve ancora esserci la vasta deve esserci ancora la pubblicazione l'osservazione è ancora lungo l'iter crediamo veramente che sia ora di passare dei fatti alle parole dalle parole ai fatti per una nuova bra e per una bra che veramente cambi non solo nelle pagine scritte ma neanche e soprattutto nella realtà per queste motivazioni non possiamo votare contro questo documento perché condividiamo a pieno quelle che sono le linee guide ma certamente non condividiamo il fatto che per adesso sono rimaste scritte sulla carta e non le troviamo per niente riscontro nella nostra città per questo motivo esprimeremo un voto di astensione perché perché facciamo nostre quelle che sono queste indicazioni questi propositi e speriamo che nel futuro possano trasformarsi da parole a fatti grazie